Il letto vento sta per iniziare Ok, ci siamo? Siamo in stream Ciao Ci siamo? Siamo in stream E gli aerei passano Gli aerei passano quindi siamo in stream Se sentite gli aerei, siamo in stream Ok, iniziamo Prima live ragazzi Del canale con la gente da 9 in sottofondo Salutiamo Nell'altro computer qui accanto abbiamo Tutta la chat quindi se qualcuno Scrive lo vediamo Non so quanti siamo in Spettatori, vedete un po' Non so 5 Noi siamo bassissime su live Ah si? Aspetta Posso alzare? C'è anche Si puoi alzare da Anche l'aria dietro Siedi Siete bassissimi Così? Provate Nessuno parla più Siamo bassissimi noi E' difficile parlare con voi e sentire la live Cioè mi confondo Ma infatti metti muta la live Ok 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 Allora In questo live che cosa faremo? Ah infatti Andiamo a spiegarla Io ora chiudo Cioè chiudo Metto Riduco icona E metto il gioco Ok Ci siamo Ci stiamo muovendo Si vede bene? Si Si vede che Mi sto muovendo io E forse c'è un ritardo Ok Allora Non so se mi stanno seguendo anche su Pokémon MO Ma allora Spieghiamo cosa andremo a fare Innanzitutto Ron mi sta dicendo di Shido Shido purtroppo non può essere qua Però lo salutiamo Eeeh Vi dispiace che Perché sennò era qui nel TS con noi Eeeh Aspetta Oddio Oddio qua Se no non vedo niente Adesso slainerà Ciao Siamo Siamo online Siamo Ad al vivo Shido Eh Shido Oddio Salte Eh no L'abbiamo un attimo Cacciato via Perché? Un po' casino Avanti Avanti Tranquillo Allora Cosa faremo qua Fra mezz'ora Inizierà la partita dell'Italia Quindi la commenteremo insieme Sperando che non crashi prima La connessione Ma abbiamo messo il live in 480 Perché sennò diceva Aiuto problemi esplodo Stava dicendo Quindi abbiamo passato Boom Eeeh Aspettate un attimo Eeeh Mi pare giusto Allora rimettiamo No Boh Non so cosa stavo scrivendo Allora Cosa faremo? Dicevo Seguiremo la partita Fra mezz'ora Appena Eeeh Appena Starterà Appena inizia Eeeh E nel frattempo Ci dedicheremo A una cosa Abbastanza impegnativa Ovvero Cercheremo Di Catturare Più Shiny Possibili E se lo troviamo Visto che siamo Eeeh Qua In questa zona qua Diciamo Eeeh La route Eeeh 116 Eeeh Dopo la prima palestra Su Owen Su Pokemon MO ovviamente Se non sapete come scaricarlo C'è il tutorial Nella playlist tutorial Del mio canale Eeeh In questa parte Siamo qua Perché qua si trova Eevee E ovviamente Un Eevee Shiny Vale tanto E quindi Speriamo di Fare i big money Su Pokemon MO Esatto Perché così almeno Ci compriamo tante cose Per fare i Pokemon Competitivi E andiamo a fare i cool E andiamo a comandare Nelle tornei Esatto Più Eevee possibili Eeeh Cosa bisogna fare? Innanzitutto Visto che tanto Non è ancora iniziata La partita Quindi Siamo su Pokemon MO C'è anche Valerio Oddio C'è anche Valerio Ciao Vale Oddio Oddio Che è Valerio? Eh fate la replay Dove è scritto? No ma cosa va andato? Oh 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 Ah Ah Che C'è C'è Vale L'ha scritto A Ila Perché ora Ila Ila si occuperà un attimo Di guardare la chat Quindi ditemelo Anche voi se c'è qualcuno Quanti siamo Di spettatori? Nove ora Nove Oddio Oddio Scrivete un po' Scrivete Scrivete Sì ma la live Vale La live si vede Il ritardo Il ritardo è normalissimo Cioè succede a tutti Ah però La chat è in contemporanea Ok Vabbè certo La chat è super live Sono delle farghele Allora Chiunque sia in live Quindi nove Scriva Cacca pupù Cacca Perché cacca pupù? Così Voglio vedere Quanti sono Che scrivono Cacca pupù Uno Due Tre I tuoi modernatori preferiti A me Non mi bannate please Ma come Scrivi cacca pupù Vale Non scrivere Non mi bannate please Scrivi cacca pupù E quel che continua Ma che casino che fanno Comunque stavo dicendo Allora Perché Ciao Ciao Luca Ciao Luca Grandissimo Bene È uno che segue il mio canale Non come voi Lui commenta Non come voi Va bene Strono Ma state Sono capito Non siete È Phantom Eccolo Ciao Phantom Ciao Phantom Però no Mi sa che Phantom Non ce la faceva Venire sul TS Ma buona Ma l'aveva detto Che non No non so Se era lui Manux GT Manux GT Comunque se volete Seguirla lì E non venire sul TS Perché già qui C'è casino Fra un po' Anche quella partita Quindi dovremo No Un 10 spettatore No Perché io Mi ricordo Se lo aspettava No sinceramente no Minux è una caccapupù Bravissimi ragazzi Caccapupù Mi fate felice Ma what? Why? Ragazzi Allora posso invitare Una persona Che tutti noi Avevamo con il profondo Corre Che sto dicendo Comunque Parentesi su questa cosa Allora Startiamo un attimo Su Pokémon Prima che inizi la partita Così dopo Visto che l'avrò spiegato Andrò avanti a cercarlo E avrò un occhio sul gioco Un occhio sulla televisione Che è qui accanto Come funziona? Ora io attiverò Un Ron Com'è che si Dillo in chat Com'è che si chiama? Oh Ignoto Il Donator Quindi biglietto Stato donatore E Ron Correggimi se sbaglio Funziona così Se Come c'è scritto qua Leggo Se viene attivato Ha il più 25% Di Expo Nelle battaglie Il più 10% Di incontrare Shiny E Più 10% Fast Rending Ah ok Quindi le uova Si Hanno Il più 10% Di velocità Di far Di schiudersi No? Credo sia così Blakes Blakes Sembri gay Addio Ora scoppia in casa La Valerio che scrive Comunque Allora Io Io uso questo E quindi Da quello che Spero Escano Più Lai Più Shiny E speriamo di fare Big money Così andiamo a venderli Quindi Usa Ma tutti sappiamo Che non troverai mai niente Esatto Stato di natura attivo Dura 7 giorni Quindi da qui in poi No dai Blaze Ora non iniziamo Perché ti levo subito Il moderatore Te lo levo Chi insulta Chi insulta Deve essere bloccato No perché è il tuo fratello Ok io inizio Ah e c'è anche Addio Aspetta Torna su perché Non ho salutato qualcuno C'è Manux Manux che è con noi Mi sembra Manux è il ragazzo qua Col cappellino Ciao Manux GD Ciao Credo di sì Ciao Manux Le salutiamo Luca Che ha scritto caccapopù Ciao Luca Ciao Ciao Invitate Invitate altra gente Spammate dovunque potete Così Dove lo spammo No no Dico anche a loro Che sono in chat Così Ci divertiamo Ah ecco C'è Un po' No ve l'ha fatto già vedere Abbiamo messo Un video di vlog Che ho scritto Cambiamenti E l'ultima domanda era Un nuovo membro del canale Bene Oggi È qui con noi Ila per favore Fallo vedere È un po' impaurito Si chiama Mirtillo Ragazzi Abbiamo Mirtillo Secondo voi perché Un maschetto Cioè vi siete voluti rovinare la vita Lo sapete che è che è Olla Ciao Perfetto Vieni ragazzi Io inizio Si inizia a cercare Vediamo un po' Chi appare Intanto se gli altri Vogliono parlare di qualcosa Di serio Ah innanzitutto Zippo Che ce l'ha prestato Ron Per questa cosa È appunto Credo c'ha Vi aspetta Vediamo c'ha Ira di Drago Dragon Rage E Ira di Drago Credo Sì No te dono la tastiera Amore la tastiera Non fai le sue direttore No non fai Mirtillo Stai attento Vuole giocare anche lui Ah già È vero Giusto Ron scusami Ragazzi abbiamo una cosa bellissima Guardate Scusi però Poi lo vedrete Fra poco in live Come faccio a vedere la partita Senza L'audio No ma l'audio può metterlo basso Non credo che sia L'ho detto È la Jalapas Noi lo seguiamo su Rai 4 con la Jalapas Comunque Stavo vedendo Se la trasmette Guardate Guardate ragazzi Guardate Il cappellino Che ci ha prestato Ron Guardate Bellissimo No ma io volevo Quello di Shido Quello che si nasce sempre Con la Cazzola di Shido Ok Ancora niente Eh innanzitutto Ron Ci sono Dei modi Per trovare meglio Shiny No Non ci sono modi Per trovare meglio Quindi no Serve solo questo Perfetto Ok Allora Guardiamo un attimo Le mosse Di Di Zippo E ecco Ora In chat Perché Si chiama Zippo E Ron Non dire niente A cosa Zippo Il nome Il nome Del Charmin Del Char Sì No Del Charmeleon Che ho in squadra Che sto usando Che mi ha prestato Ron È un soprannome Famoso Per un Charmeleon Perché Scrivetelo in chat Vediamo un po' Chi indovina Non si non lo fa Eh vediamo un po' Chi indovina Allora Questo Falso finale Ok Allora mi sa che Sulle scene Dovevo usare Falso finale Non si può sapere No 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 Dai dai Vediamo un po' Chi ci arriva Nessuno Allora Andiamo a figarci Al mosto Oh Ron Aiutaci Diccelo Ci sono troppi dark È vero Sono tutti Così tutti dark Ma perché vi chiamate dark Troppo forte Troppo forte Perché dark Gli piace l'ombra Magari è perché L'ombra è il shadow Bappo Manux Ma Cerca anche te Aiutaci Vai Vai Manux Vai Manux Che Manux È il terzo ragazzo Che è con noi E che è Nella Nella Gilda Nella Chi è che è uscito Poche MMO Voi mi raccomando Dite sempre Quante persone ci sono Dieci Io non lo posso vedere Chi è andato via Valerio È andato via Valerio Phantom Oh C'è Lorenzo Ciao Lore Che bel nome che hai Che bel nome Lorenzo è un ragazzo Di qua Di Ghezzano Che gli ho fatto animatore All'ACR Saluto Ciao Lore Chi è Yolo Yolo Ciao Yolo Oddio Aspetta però Non voglio fare figuracce Ti ricordi Oddio No non mi ricordo No non mi ricordo Realmente mi Cosa Cioè Dove ti ho conosciuto Non mi ricordo Yolo Ciao Yolo Ricordamelo Perché se no Non voglio fare figuracce Ricordamelo te Ecco Fai figuracce No Non voglio Metto le mani avanti Sono sincero Non mi ricordo Male Però se mi dice qualcosa Se mi dirà menta Può darsi sì Perché ti chiami Minogilda Senza il trattino Su Pocchè MMO Bocco sì A posto 11 persone 13 persone Ehm Ti è arrivato Bello Io uso due account Ciao Secondo account Luca 17 pollici in su 17? 13 spettatori Uhuh Ragazzi Andiamo così Ah ecco Informo a tutti Visto che C'ho Gli iscritti Privati Che non li potete vedere Che siamo arrivati A 581 Quindi ragazzi Dai che Diciamo Rimaniamo Nel Perché siamo arrivati A 500 Il 4 Aprile Mi sembra C'è Official Varda Che dice Ciao Mino Ti ricordi di me? Sono Ceres Ah ok Ah ok Ceres No Quello di prima È Official Varda Certo che ti ricordo Varda Varda Io c'è C'è il tizio Che è l'officio Al Varda Ciao Mino Sì è Guardi di me Ciao Varda Ok Si ricorda Mino Ma scusate Ma chi cazzo è Mino Varda Varda è uno Youtuber Che ho conosciuto Grazie a Prodestruzione Kenner Continua Ok Ricordiamo Prodestruzione Che sul canale No Prodestruzione Ora Prodestruzione Riaprirà il canale Quindi partiranno di nuovo Le Perché non so Perché gliel'hanno chiuso Non riesco a capire C'è una lunga storia dietro C'è una lunga storia Però C'è Per tanto Prochino Riaprirà E quindi Ripartiranno delle collaborazioni Siamo in 14 Siamo in 14 In culo Come in culo No 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 Non si offende Perché hai gli iscritti Nascosti Allora Perché Ho notato Da quando sono arrivato A 500 E qualcosa Che abbiamo partecipato A 2Talent Che Mi si disiscrivevano Le persone a caso Perché tipo A per 2Talent Si iscrivevano E poi si discrivevano Quindi ho detto Mettiamoli nascosti Così la gente Viene sul canale Perché Vede le cose Vede dei video Belli O se no Anche simpatici Cioè Guardabili In poche parole E quindi ho detto Proviamo Ho provato E ora Siamo Siamo a 581 Quindi Saluto tu Chi? Lorenzo Fruzza Oh mi saluta Come? Oh Lore Ciao Ciao Lore Ciao Lorenzo Fruzza Che abita a Ghezzano In provincia di Pisa Sì allora Di dove abitiamo Non so Vuoi dire anche l'indirizzo Io lo so Tra 10 minuti inizia partito Sbaglio Sì fra 10 minuti inizia partito Infatti siamo La Chalapas Con Rai Dire Europei Ha iniziato Puoi curvare un attimo Nello schermo Certo Mina Mino Dici Ciao Mino Ciao Lore Lore ma sei da solo Fai venire anche tutti gli altri Fai venire anche il Cosci Mattias Camilla Tutti gli altri Forza Forza Portali tutti Manda messaggi Manda messaggi Tutti vi voglio Tutti Un'intento dobbiamo controllare i vestiti Pollo 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 ragazzi che è qua eh Che è qua Pollo Pollo E' un pollo Ancora gli aerei questi ragazzi Ora vedete in live gli aerei Che passano dietro a casa nostra Ma è estate Che ci puoi fare? Ah ecco però aspetta una cosa Non si vedrà il nostro bellissimo Mino Z Ah ecco Luca Luca Viva l'Ishai Luca se ci sei scrivi Cia Cia Viva l'Ishai Ha scritto Perché Cia Cia Così Cia Cia Così Perché devo Dire una cosa Luca sei te che mi hai scritto Che vuoi chiamare Rals Lady Oscar Perché visto che è l'unico commento E l'hanno votato un po' Oddio sì È perfetto Lo chiamiamo Perché tanto diventerà Gardevoir Intanto Ila Ila viene anche a te Facciamo vedere cosa stai facendo Dov'è il gatto? Il gatto sta dormendo sotto il mio letto Ah ok Perfetto Il gatto va sotto il letto No niente niente C'è storia Lorenzo che ieri sera Cus Ground Perché a Pisa c'è il Cus Ground Dove tipo fanno le peggio cose Del cold basket Credo Credo solo O anche Bocco il rap C'è anche un po' di break Alt Allora amore mio Ti fa un piacere Vi spammare la live Perché ci vengono tante persone E mi lo sai La spammare E poi ci E sta già facendo E la devo spezzare Perché siamo ancora a 13 aspettatori Allora guarda che Sinceramente Sinceramente Non me l'aspettavo 13 Ma l'aspettavo Dicevo prima Molto meno Esatto Ma perché Non so se voi Quelli che seguono me Seguono anche i retro players Cosa fanno? Loro ogni tanto Eh cosa? Rispondi a Apul in chat Ah si Ceres C'è Mina O Ilaria E qua La vedi? Salve Non so se la telecamera è piccola Eh mi sono testa È certo che si Però Ilaria Non la fa più Adesso c'è anche Mina Intanto noi siamo Sempre qua Non è ancora uscito Uno shiny Prendo carta e penna Allora ok Manux sta prendendo Ok Allora bisogna segnarci Tutte le cose Che troviamo Perché speriamo Ah ho zip al 22 Cioè qui sale Non mi fa andare Su youtube Al link Non so perché A caso A caso Comunque ora Non so se Anche la shot è in ritardo Rispetto al video No 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 Rai la shot è live Super live Ok A me è possibile Rai chiudere il sito Baze basta parlare In quel modo Ebbè Valerio smettila E no Mi sa che Trafatello Io li seguo Bravissimo Si si da tanto Che cosa si si da tanto Ah Ron Perché non lo devo Exparre Zippo No e come faccio A fermarlo Che sbatti Stai mandando i pochi Allora Io lo vorrò chiede Perché hai chiamato Ah faccio fuga Se non esco Ah oddio Scusami Scusami Ok Faccio fuga Se non esco Perché hai chiamato C'è il million zippo Ah Mino La live in ricordo Ma dai Bravo Complimenti eh Perché tu hai un linkada Shiny Ne ho chieni due alla fine Perché No non lo so Mino vuoi rispondere alle domande Che hai chiamato C'è il million zippo Ah non è mio È di Ron Però gli ho fatto La domanda Se qualcuno lo sa È bravo Nessuno Ivi Ivi numero uno Ragazzi Primo Ivi Segnatelo Segnatelo Scrivete tutti in chat Uno Oppure Ivi primo O primo Ivi Fate qualcosa che vi pare No si trova facilmente Dai tutti in chat Ivi primo Anche Ron Anche Ron Anche Ron primo Attenzione ragazzi Eh ciù salute Iniziamo con le ultra ball Vi dice Magica Chanel è in live Mazzata Allora E chi vuole sapere Se poche MMO Costa No È un free to play Trovate Trovate Ho chiamato Su internet Scrivendo poche MMO Una poche Ma scusa ma ci sta il tutorial di Mino E tu fai Fai La pubblicità Google Allora Io sto dalla parte degli iscritti Allora sai che andare a riguardare Mentre c'è la live Quindi spieghi con me No Non potevi contarti No ma Si sono normali Guarda Eccolo Primo Ivi Catturato Catturato Di tre minuti Allora Un paio di minuti Forse Innanzitutto ragazzi La partita Sono nel tunnel Stanno quasi per iniziare Nel tunnel Dal divertimento Lolololo Allora C'è Yolo Chiede se costa Pokemon Allora Ron Eh Ah ok Pokemon si Pokemon no Cosa Esatto Allora In chat Ora c'è Il tutorial Messo da Dark Ragazzi Non costa niente Dobbiamo Dovete solo andare a prendere Dovete solo andare a prendere Come dirà In tutorial Delle Ron 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 Che casino Per quanto si evolve Ok Sto vedendo Le Scusate Che c'è anche la partita Ho trovato Iniziato No Ancora no Con la vita A 30 EV E basta Ma questo non è Il primo Ivi Ragazzi Purtroppo È un flop Anche se non era shiny Però vediamo un po' Dai noi continuiamo ragazzi Prima o po' ci capiterà qualcuno C'è quel bel Pokemon Ah ok Luca Non lo sapevo Comunque Luca Ti dicevo Mi sa che Il nostro ralzo Nel prossimo episodio Di Pokemon M.O. Lo chiameremo Lady Oscar Come hai detto te Quindi Ci sei Dentro anche te In questa serie No no Fino Ma fai anche Rondo Major Oggi 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 No Però L'hai detto Perché esce Domani Aia Ragazzi In chat Ivi secondo Ivi secondo Ivi secondo Ivi secondo Ivi secondo E andiamo Ron l'ho fatto vedere No no ma l'ho fatto vedere L'ho fatto vedere Ma cosa Ma quello di Ron Ok Questo è quello di Ron L'Ivi di Ron è questo No siamo scesi 11 spettatori No L'ho fatto vedere L'ho fatto vedere Ron E' per quello L'ha fatto vedere Quindi la gente Aia Aia Ecco ragazzi Stanno entrando le squadre In campo Inizieremo a commentare Iniziamo a commentare Anche la partita Comunque si Ah scusa Eh ma non c'ho posto Ron Non c'ho posto Nella squadra Quindi non posso farlo Vedere anche in chat Allora Iniziata Ok Secondo Ivi vediamo un po' Manux Però nella live Lo mostro E' solo che non ho spazio In squadra Non posso Non posso metterlo In chat Comunque è il secondo Ve lo dico Ve lo sto dicendo Sì sì Stanno entrando Stanno entrando Eh ragazzi Ma la battaglia Dove erano sui destini? Stai mandando il nick Rai4 Rai4 Anche Rai4 Rai4 Noi lo guardiamo Solo le 4 Perché ci piace Guardare solo le 4 Anche se si vede peggio Rispetto Però vabbè E tu qualcuno Sta Ma hai uscito un terzo Ivi? Se qualcuno se lo vuole No questo è sempre il secondo Questo è sempre il secondo Anche qua Nella chat del live E non me lo fa copiare Fatto io Esco E' gratuito no? Sì 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 Rai4 Sì è normale Valerio Ma registri lo schermo E si vede nella live Sì Sto usando Come sul consiglio Di Ale Blades E tutti gli altri OBS Sì sì Io no E Dark E tutti gli altri OBS Scusa scusa 10 spettatori E vabbè ragazzi Pochi ma buoni Stavo dicendo Retroplayers Prima C'ho troppe voci nella testa Allora Retroplayers Cosa hanno fatto? Ogni tanto fanno Delle live Mi sembra Il mercoledì sera E loro Hanno 500 No scusa 50.000 55.000 Iscritti Io ho detto Andiamo a vedere La loro live Nella loro live Erano in 30 30 Massimo di 30 Più di 30 Non andavano Quindi se io ho 10 spettatori Ho 600 quasi iscritti Va benissimo ragazzi Va benissimo Pochi ma buoni E da l'orario E ha sempre 1000 Ma è una mia impressione Stanno iniziando i game Sì Stanno iniziando i game Allora ragazzi Tutti con la mano sul cuore Tutti con la mano sul cuore Anche se convinti Secondi di ritardo Tutti con la mano sul cuore Io ti posso lanciare una sfida Cosa? Allora Su questa live Eh Arriva A un massimo Di 30 Di 30 Spettatori E di 25 Live Tu Devi comprare Un'arma di scia Che io e Ale Decidiamo Se immagino No anzi Però lo potevi spendere In class Eh infatti Spengiamo A 30 Spettatori 25 like Ti facciamo comprare Overwatch Amico No ragazzi Ora no No ragazzi Troppi giochi Poi non so più dove girarmi Poi davvero Io sto Dormo Cioè la notte Non dormo più Perché sarò qua Il computer ha fatto tutto No no Quel punto te lo porti a casa Perché ragazzi No perché mi conosco Ragazzi Mi conosco Quindi so Che Se ho i giochi Che diciamo Mi piacciono E quindi So che se li compro Ci sto A giorni Cioè poi Non mi ci levi più Cioè poi Tutte altre cose Vengono a me Esatto Infatti basta CS Per ore Quindi accetti la sfida Quella che sta Portiglio Se ti arrivi A 30 Spettatori 5 like Compri un'arma DCS Che io Le decidiamo Quanti siamo Ok Quanti siamo 8 8 8 8 Ma cosa 8 8 8 8 8 8 8 Siamo Siamo Abbassati Bastarti 9 9 9 Come 9 Qualcuno sta Uscendo a posto Qualcuno sta Uscendo a posto Sono finiti Sono finiti Ragazzi Si inizia la partita Inizia la partita Tutti Tutti Ragazzi Ora che c'è pubblicità Tutti a spammare La live Così almeno Iniziamo Boh Su facebook Anche Eccolo Allora Eevee Cioè abbiamo Il secondo Eevee Catturato No Catturato Sì Allora C'ha Hardy Hardy C'ha Hardy C'ha Hardy Cioè vuol dire Che nessun cambio Di statistiche Sì E vediamo un po' No anche questo qui È un flop Mi dispiace Continuiamo Che cosa vuol dire Oh un po' dare Scusate Time out Qui le formazioni No guardate L'inciletto Ma che vuol dire Metti l'utente Time out Esatto Luca sta dicendo Ivi dannato Fatti catturare Sì Perché non Mino Io sto spammando Tutti a 6 Dai Che Vai No via No 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 C'è RSS Pazzo C'è RSS Pazzissimo Pazzissimo Un CS Sì C'è un coltello C'è Allora Vediamo un po' Sdoppiamo un attimo A parte ci sono le formazioni Abbiamo No via Ah no Questa No sono La panchina Ah oddio Sostituti Signore Ce l'ha scritto Sirico Ho detto no via Giochiamo con Sirico Siamo pazzissimi Siamo pazzissimi Buffon Bazzagli Bonucci Chiellini De Ciglio Florenzi Sulle fasce Giacchierini De Rossi Parolo In mezzo Ed R Pelle In avanti Giochiamo così Con tipo 6 ammoniti Diciamo 6 ammoniti Quindi vuol dire Che se qualcuno Si fa ammonine Con la Germania Se passiamo Buona E ciao Batte la Spagna Batte la Spagna E dai ci siamo In Napoli No eh Un like Se questo Aumentiamo un po' La posta in alto Così aumentiamo Un po' più le cose No? Allora 50 spettatori E 30 like Tu compri 5 anni E' iniziata ragazzi E' iniziata E' iniziata La Spagna Subito avanti Dove ha qualla lei La Spagna Subito avanti Ragazzi Abbiamo rubato palla Si ruba palla Si ruba palla Si ruba palla Mamma mia Subito in avanti Noi ragazzi Subito in avanti Cattivi Come non mai Quando l'Italia fa un gol Grido nel microfono Di Blaze Vai Io uso questo Non so se lo vedete Questo qua Questo qui è per Quando escono shiny E facciamo gol Anzi guardate Vedi C'è la faccina felice Se facciamo gol Ci sono di shiny Se subiamo gol Facci una triste Sparata da Dal tizio Stiamo Ragazzi stiamo attaccando Stiamo attaccando Attenzione Attenzione Ragazzi Partiamo già forte Facciamo già fortissimo Pelle subito Pelle subito Ragazzi Stiamo partendo Fortissimi Non lo dire Per favore Eh? Non lo dire Va bene Ok Ilaria si occuperà Della partita Noi continuiamo qua Così Vediamo un po' Stavere Ragazzi Allora facciamo così In cosa lo fai evolvere Ivi? Farò no Eh? Farò no Allora Luca ci chiede Farò no In cosa lo farai evolvere Ivi? Allora se Uno L'ho già cattolato Tipo Offline Dopo Lo scorso episodio Ed era molto buono E quindi Quello potrebbe diventare Mi sembra Ron Un Un Vaporeon Mi sembra Era? Dimmelo da qualche parte Fammi sapere Espion Un espion Perché aveva attacco speciale Però se ne catturo un altro Vediamo un po' Vediamo un po' Dalle statistiche Se posso Li vorrei tutti Le evoluzioni Perché non ce l'ho mai avuta Tutte Quindi No Valernio dice Se puoi C'è il suo gesterno Della partita E' No Non posso No Non posso Perché ragazzi E' della RAI Cioè Non è cosa mia Il gioco è mio Poi intanto Commento la partita Tra le altre cose Sta diluviando Non mi ne ero Accorda Intanto però Non dovrebbe essere un problema Visto che abbiamo Dattor Link Della RAI Ecco là Ecco là Vabbè Appunto In concomitanza Con me Viva l'Italia Viva l'Italia Mi parte bene Attenzione se mi parte bene Intanto No Troppo lunga Niente Però ragazzi Siamo cattivi Siamo cattivi Guarda me piove Poi come piovede Boia E intanto No ragazzi Ancora 0 Shiny Shiny Eh Sì Non ne troverai Ma Ma è normale Che non si trovano ragazzi Cioè Il 10% in più E' molto poco Povero Conte Si mette l'impermeabile Se no Poverino Ancora zizza con Allora Facciamo così Facciamo così Ragazzi Serve Mirtillo Quindi mettiamo Prendiamo Mirtillo E mettiamocelo E ci seguirà Guardate C'è Mirtillo Il nostro Magikarp Che è il 17 L'ho continuato a allenare Quindi nel prossimo episodio Credo si evolverà Quindi Dietro Vediamo un po' Se porta Fortuna Dai Mirtillo Col cappellino Che gira Elica E te dietro Si troveranno Di sicuro Attenzione No A parte che Sinceramente Non so come Questi pokémon Diventano Shiny Non so che colore Abbiano Quindi Beh ma lo vedi Dalla stellina In alto Ciao Mindo Ciao Fapper Ciao Fapper Ma non eri Poco fa Con noi Bello il Magikarp Mindo Si sente la tv Eh va bene Ma non si sente Mindo Cioè ma è molto bassa Però beh Chi se ne frega Cioè non è che Eh di Di Ma io la 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 che ce l'ho mutata No la la che ce l'ho mutata Perché con l'audio della telecronaca Ammino che parla Voi che parlate È un casino Ragazzi Terzo Eevee Eevee terzo Eevee terzo in chat Eevee terzo in chat Ce l'abbiamo Eevee terzo in chat Ragazzi Ma a me non vuoi prendere tutte le posizioni Dei Eevee Guarda che Eevee Vale di per sé Se lo catturi anche normalmente Se c'è delle buoni V Tipo sui 40.000 Eh Ma ecco I volumon si vendono pure È certo Ah sapevo sta cosa Ah Ron dici di più Di più di 40.000 Con delle buone V Quindi cioè E vi dico subito Ron mi ha detto Che se si prendono Eevee e Shiny Quindi credo userò la Master Ball Subito È perché Non voglio Attenzione sta attaccando la Spagna Via di lì Via di lì Bravissimo Ma vorrei mai gli Eevee Sono così a ricercare Non lo so Però se si cattura uno Shiny Vale Super giù 100 Perché costano tanto Perché costano tanto Allora lo dico qua vicino Vicino al microfono Allora dove vicino al microfono Vale 100 milioni Cosa Eevee Shiny A piacere Quindi se lo catturiamo Ragazzi Grandissimo fa Perché ci segui Mentre è in piscina Ragazzi Fa per in piscina Vai No Ma io non sto guardando la cazzo Attenzione si attacca Si attacca Attenzione Tu non l'hai vista No Mamma mia ragazzi Come No ragazzi No Eder 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 Eevee terzo Dai ragazzi Siamo gli unici a non guardare la live No no A guardare la Ho quasi finito l'epoca Fra un pochino passerò le masterblo Se no andremo a comprarle Comunque Ringrazio Ringrazio tantissimo Ron Che è Ron Che ha avuto questa idea Ha detto Ma perché non fai una live Con la ricerca di Shiny Guardi la partita Quindi Grazie mille Ron Facciamo un applauso a Ron Facciamo un applauso a Ron Grazie mille Ron Grazie mille Non so se dove sta scrivendo Però grazie mille Basta lo sto Grazie Ron Per avermi combinato E avere una rottura di collo Attacca la Spagna Attacca la Spagna Attacca la Spagna Ma noi abbiamo il catenaccio dietro Accidenti a questo cavolo Mino Eh Una domanda A che minuto stai tu? Sto al minuto 6 e 38 Ah posso? Io lo vedo 20 secondi prima Ehi Sto a 17 No No Non facciamo le cazzate Non facciamo le cazzate Ok Mino non vogliamo spoiler Sei sul ultimo Non vogliamo spoiler Ma cosa? Noi lo vediamo 20 secondi dopo Esatto Esatto Luca Si E c'è una cosa rarissima Infatti già trovarli così Cioè E te per fare soldi vieni qua Catturi i V E li vendi Ultima Pokéball Poi passeremo alle Ultraball E poi fra un po' Andremo a prendere altri Pokéball Perché ci servono Tanto abbiamo i Big Money Abbiamo Non capisco Mino scambio Perché? Quale scambio? Ron Cosa devo scambiare? Che cazzate? Mino scambio quando finisci Ah ok Chi è? Chi è? Ultrabolla Oh Punizione per l'Italia Punizione per l'Italia Attenzione dal limite dell'area Tutta Il limite dell'area Saranno 10 metri Frolenzi dice di spingere dentro Tutti Attenzione Eccolo Ok Mamma mia La parata Mamma mia Mamma mia Eh Carcimino Molto gentile Grazie Ma io lo Va bene Allora scusa Devo dire niente Ok Ringraziamo Ron Per Le Le Pokéball Però dicevo Ron Stai seguendo Un attimo Anche la live Per vedere Se vanno bene Ok Questo Ah Quindi ragazzi Vedi Tipo questo Eevee C'ha Più 10% Di attacco speciale Quindi se andiamo a vedere No Vedi ragazzi Le v sono troppo bassi Tipo velocità 8 Fa schife Quindi non si può evolvere niente Poi dopo vi farò vedere Uno Quello che ho catturato Che è nel box Che potrebbe essere usato A un futuro Che è molto molto buono C'ha tipo Un 30 E Un 31 Quindi A me vi imbalza la panna Ok Qui ancora niente Comunque ragazzi 3 Eevee In mezz'ora Può andare molto bene C'è raggiunto un altro Arnold Eeeh Oh 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 Attenzione È shiny Dove lo vedi? No non è shiny Mamma mia Che carino però Cosa? Non ho capito Sono? 8 e 37 Ok Io sono 8 e 50 A posto A quanti siamo Di spettatori? Eh Sono 8 8 8 8 spettatori Va bene Va bene Così ragazzi Va bene Così 18 like 18 Oh signore Ragazzi Aggiore 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 Mini del terzo Eevee Quello Sì Siamo arrivati a 3 Eevee Grazie Manus Ciao Nicolo Ciao Nicolo Benvenuto Se vuoi giocare con noi Entrai anche te nel nostro team Di Pokémon MMO C'è il tutorial Che spero qualcuno metta Tra poco Se è possibile Dai Dai Grazie mille Si attacca Si attacca No Che palla ha preso Non dico niente Non dico niente Non dico niente Ragazzi Non dico niente Che Ragazzi Siamo pericolosissimi Che palla ne ha fischiato Ah Gamba tese Siamo pericolosissimi Siamo pericolosissimi Siamo pericolosissimi Vino 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 È la mia sogaria Che c'è? Ma è stato di talmi Cioè Ron Ron Di Ma non fa Ma non fa Ma non fa Ma non fa Ron Di a Arnold Di venire Sulla live Mettili lì Il link della live Ma oggi è incredibile 0-0 la partita Sempre 0-0 Nicolo Siamo sempre 0-0 E come dicevo Se vuoi giocare con noi A Pokémon Link in descrizione Mi sembra Credo O non mi ricordo O se no Vai nei tutorial Del mio canale C'è come giocare A Pokémon Io comunque Vi devo lasciare Che devo uscire Ok Ciao bello Ci becchiamo dopo Va bene Ciao ciao Vai Mi andava Io vado a prendermi qualcosa da bere Salve Anche io ti voglio Ciao a tutti Ciao 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 Ancora niente Niente shine Ah comunque Nicolo Che quanto tempo ci metterai Scaric Poco 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 Però il problema Allora dipende dalla tua connessione Se hai una connessione da schifo Allora È una connessione bella figa Quanto ci vuole Il problema Nicolo È che Non ce la fai a Venire con noi In questo momento Però Più in là Può darti Cioè se vuoi venire in futuro Con noi a giocare Scaricatelo E ti aspettiamo Comunque Sarai nella prossima live Esatto Nella prossima live E ti spieghiamo anche Cosa stiamo facendo Visto è arrivato ora Stiamo cercando Mentre colimentiamo la partita Le shiny Pokémon shiny O esattamente Eevee shiny Perché Costa un bordello Quindi se Abbiamo attivato Il donator Che lo compriamo Infatti ringrazio Ancora Ron Che ce l'ha offerto E se Troviamo shiny La andiamo a vendere Facciamo il big money E intanto Continuiamo ad attaccare Ragazzi Come dei pazzi Sì ancora Zizagon Cioè Ci sono solo Almeno venisse Solo shiny Cioè almeno shiny Ecco Ron Quanto è che vale Uno Zizagon shiny Attenzione Facciamo vedere Pochissimo Perfetto A posto Facciamo vedere Anche il terzo Eevee di Ron Quindi anche Ron Ha trovato il terzo E anche il suo Fa schifo Perfetto Andiamo avanti Io sono ancora Loggato su Minecraft Cosa avete per trovare Così facilmente Questo Quella cosa in alto È un bigliettino Che dura sette giorni E Tipo Ti aumenta il 10% Di trovare shiny Però C'è una cosa Shiny non mi vi Arnold Arnold ci sta dicendo Su Su Pochamimo Che sta vincendo Nessuno Siamo sempre 0-0 Tredicesimo minuto E mezzo Mi sembra Sì E stiamo attaccando Tutte e due Quindi Mamma mia Com'è tredicesimo Io metto 12 Questo 13 10 Viva gli zigzagons Ah Ti dici Che sta vincendo Di trovare Eevee Siamo tre pari Non so Manux Te quanto stai? Te sta cercando Stai contando E basta Oddio Ah Lui conta Ok Ma perché sei solo In quel pezzettino? Perché sono qua A che minuto sei tu? Sperate un secondo Che è scomparso Ora è uscito il sole Scusate 5 minuti infatti Luviava Pazzesco Tredicesimo 46 7 8 Sì Anche io Ebbene C'è chi ce l'ha E chi non ce l'ha Perché se ce l'hai Poi vai in giro Con lo zigzagons Shiny E vai a comandare Con lo zigzagons No vabbè Se ce l'hai Puoi trombare Con me Ivy Shiny Bianco È vero Oddio Allora ragazzi Se è bianco Mi sa che Ivy Shiny Non lo farò evolvere Perché lo tengo bianco C'è È troppo bello Scemo Ma le evoluzioni Saranno anche Shiny Ma tu è scemo Sì Valerio sta dicendo L'Italia Ha già mancato Due gole Giusto Purtroppo Già tanto Che ci ha provato Non ne voluti Valgo ne più Però intanto Non stiamo Che c'è Dica Che c'è Che c'è E bisogna cagarti Infatti Vado a cagare Dopo quello che hai detto State zitto State zitto Alla mira Peggio di un crescetto Che cerca di accoppiarsi E di centrare il buco Ma quindi Quindi te hai visto Un crescetto Che sta per accoppiarsi No racconta No perché Siamo curiosi Allora in questo Per ora Il crescettino Sale sopra la crescettina Luca c'è Pimpondo Quella fa Arriva il momento Delle yaku E poi Appena arriva Delle yaku Ok Ora Ora basta Però Non ho capito Che cosa sta No no Lasciamo stare Cambiamo discorso Non ho capito Non ho capito Non ho capito Fuori capo No Passa all'arbitro E Luca dice Evaporano in shiny È rosa Bellino Bello però Bello shiny rosa Cioè Fammi capire Se catturo Evie Bianco E lo faccio Sfumare in un vapore Non diventa Da bianco a rosa Pazzesco Non so Non ho capito Non è viola Però ragazzi Noi vogliamo Evie Perché Ecco l'Italia Ecco l'Italia Che avanza Sulla fascia Attenzione Attenzione Sbagliano 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 Non è sicuro Guarda Sì è vero Arnold Se lo becco Si svengo Mi sa che come vi sentite E vado giù Ma a me vanno bene tutti i shiny Quindi Dai Attenzione Silenzio Ragazzi Ragazzi Crash è il gioco Sì Esatto Che devo dirti Non ho niente da dirti Infatti Stiamo tutti in silenzio Per seguire l'Italia Che Stiamo un attimo Cercando di ricostruire Un po' Il gioco Vabbè Ma dove la tiri Momento Momento silenzio Hashtag Momento silenzio Momento serietà Abbiamo capito Il gioco Il calcio Saponato Eh Per me non si aspettavano Che piovesse Non si aspettava Il scivolato Metteva Che c'era Un lancio Prima Io sto facendo Altre cose Intanto Allora Ragazzi Condividete la live Cosimeno Bello Bello Guarda Come vanno via Signore Stanno tre poco zitt Stanno tre poco zitt Pure le scigne Florenzi Scivolata Rallentatore Ma la conosci Una No Con che capelli La Florenzi Io non lo so Quanti spettatori siamo Quanti spettatori siamo Mi mettiti il cappello Conte Sette No No Attenzione Attacca la spagna Attenzione Attenzione Attacca la spagna Lo sapevo Murati Ragazzi Murati Mi sistema un attimo Le cuffie Tu ci sei Ma dov'è il gatto È sotto il letto che dorme È sotto il letto che dorme Il gatto è sotto il letto che dorme È laggiù Ragazzi silenzio Facciamo Faccina triste Allora Luca Giammini Fa Asla Un momento Silenzio Infatti L'avevo detto Vedi lui L'unico L'unico Che lo scrive Nessuno lo sta scrivendo Sì Vaporeon e rosa Ah Luca Sette sette Marrone Espeon verde Bellissimi Ma è Espeon verde no Però Verde no Cioè Espeon Preferirei umbrone E Flareon marrone no Ragazzi Flareon marrone no Dai via Allora si Vaporeon e umbrone Sono quelli più bellini Anche Jolteon verde Ne Come doveva essere Jolteon Scusa Ma Eh Viva Mirtillo Come sempre ragazzi Mirtillo è il nostro Ma infatti guarda Oggi ho la Ogni volta che esce un pokemon Di me non si stava sperando Ma lui dice Mirtillo il gatto Non Mirtillo il gatto No Tutte e due Chi la c'è sperava Dai ragazzi Dai 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 che ce la faccio Dai ce la faccio Dai Dai che ce la faccio Ma posso rimettere il wifi al mio cellulare? Eh no Uffa Dopo Vabbè va si che può dai Non cambia niente? Non cambia niente? Può però non deve fare download diretti Tipo Allora aspetta Eila? Eh Devi disattivare le impostazioni Tutti i download Tipo Devo confermare per Per tutti gli aggiornamenti Devi mettere sì Perché ora ce l'hai tipo aggiornamenti automatici Di sicuro E gli aeroplani passano Asta che gli aeroplani passano Non la lascia così Con il wifi spesso A scaricare le cose E esplode Esatto Asta che gli aeroplani passano ragazzi Tutti in chat Adio Attenzione Oddio che caldo Sì Vediamo un po' come stiamo messi qua Così A caso ragazzi Così a caso Eh? Per ora tre ivi Per ora tre ivi però E in questo momento Non stanno uscendo più Sono fermati E qui ragazzi Come curiosità Su poca memoria E qua In questa zona di erba Non I ivi ci sono sempre Non c'è una cosa Tipo di notte Di giorno I ivi sono Possono essere trovati In qualsiasi momento Che è successo? Ma tipo in Spagna Non freddo Eh Esatto Alla faccia tua Alla faccia Ragazzi Tutti in chat Hashtag Blaze Sbaglia sempre Eeeh Eeeh Stante Zit Attenzione No a noi Io in live Non me lo voglio guardare Io ti fermo in live Desciglio 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 Non c'eva nemmeno la palla Tra le altre Mirtillo a fuoco Cosa vuol dire Mirtillo a fuoco Oh Abra No di ma... E' una picciannaca Stanno picciando Ragazzi quanto vale Un'abra Shine Qualcuno lo sa? Ma poi chi è che te lo compra? Chi è che ti paga 10 o 100 milioni? C'è gente che lo paga Poche soldi Tanto nessuno te lo comprerà Oh Guarda qui c'è Guarda qui c'è Ciao Marco Ciao Marco C'è Marco Ragazzi Ragazzi Il ragazzo Aspetta c'ho da avere l'Italia io Attenzione stiamo attaccando Stiamo attaccando Insomma però c'è Marco Il ragazzo che ha giocato sul CS Con alcuni della Gilda Attenzione stiamo attaccando Stiamo attaccando Marco ma sei al lavoro? Attenzione Mamma mia Mamma mia Ragazzi stiamo Ma il cartellino Non ce lo potevo togliere Signore santo Il cartellino E che ci posso fare? Eh? Il cartellino Ti lo devi togliere Sì è vero Ehi Si è svegliato Mirtillo Eccolo Non sono ancora entrato Nell'area di rigore No non sono agitato Mi sto affinando tutte le ciliegie Ah aspetta che Marco Non l'ha visto Mirtillo Marco non uscire Non andare via Via ti fa vedere una cosa E non è quello che pensi Ciao Marco Quanta l'ha Madonna mia E' un po' Sfiorato la cazza di porta Abbiamo E' il nuovo membro Del canale Oddio No 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 Mi muto sempre ciao Vabbè povero Ale Dai vuole seguire in modo la partita E' il suo diritto Tranquilli Tanto ci siamo qui Stiamo seguendo A me sicuramente frega niente Quanto siamo spettatori? 8 8 perché è arrivato anche Marco Perfetto Anche Mirtillo guarda la partita Bravo Astag Mirtillo guarda la partita E certo Viva sempre magica Perché il Pokémon burla Perché dice Ma faccio schifo E poi mi evolve E faccio Faccio casino Sono a casa Belli che siete Marco Dite lì Marco Condividi tutto Oddio Condividi Live Su Facebook Condividi su Facebook Fai tutto Fai tutto Spam a caso Dovunque Spam a dovunque Intanto saremo qua Fino alla fine della partita Ho messo la fine del live Alle 9 perché Non so se andremo a supplementare Baro Rigori Abra Shine è uguale Solo che È più chiaro Ok ma Quanto vale? Vale di meno O vale di più di Eevee? Cioè forse credo di meno Però Credo anche Abra Valga un po' Mi muto un attimo Vai tranquillo Di cercare Eevee E giocare a qualche altra cosa Dite io Sennò qua finisce Fino alle 9 Sennò qua a quale Pokemon Sinceramente io che amo Un scherzo Mante non di dove È una palla Ah spammate Vabbè ragazzi Noi bisogna solo È una palla anche Cercare Shiny Cioè bisogna stare lì Aspettare Ma infatti ho detto Pokemon MO E Italia Spagna Perché si sta guardando la partita Stiamo commentando Quindi Non credo che Giacomini scrive Miltillo guarda la partita Aspettare È certo Miltillo guarda la partita Perché l'ho detto prima Infatti lui è bravo E scrive in chat Invece De no Mamma mia Cosa sei rischiato Sono pericolosi Però gli piace anche la tua tastiera Non te lo vorrei dire No C'è già salito Ecco No No Gli piace perché Parlo Andiamo Yivi A chi l'ha visto Sono spariti Gesù Mamma mia Uff Hai visto Buffon C'ha un guanto giallo E un guanto rosa Perché così distingue meglio Qual è la destra Dalla sinistra È vero E comunque Manux ha ragione Ma andiamo Yivi A chi l'ha visto Perché sono spariti Non escono più Sta a vedere ora No Attenzione Marco ti ha taggato In un post Su Facebook Ti avrà Condiviso Si soffre ragazzi Grazie Marco Ci fanno il pane Fatto Spammato Yeah Eccolo Yivi ragazzi In chat Yivi 4 Yivi 4 Stai spaventando No Ragazzi 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 Si stanno facendo Un culo Loro In difesa Maria Eccolo Eccolo Ale Eccolo Ale Che dice Maria Si ho visto Ho visto Maria E noi ragazzi Yivi 4 Yivi 4 Yivi 4 Siamo a 4-3 Con Ron Con Ronne L'hai vista La parata che ha fatto Il nostro bellissimo Ho visto Ho visto Ho visto Cimiltino Fa il pane Mi stava Mentre un attacco Di cuore Appena ho visto Che stava Vogliono Che chiudi Fa giugli un tratto Continuiamo Ragazzi Se lo metto Vicino al microfono Si sente Non lo so Yivi catturato Alla prima Attenzione Yivi Natura quieta Cos'è Più Attacco speciale Meno speed Ah Fanculo Oddio Oddio Buonissimo Ma che urli Oddio buonissimo Ragazzi Ve lo lascio qua Ve lo lascio qua Guardate Vita PS 19 Attacco 10 Difesa 31 Attacco speciale 5 Però no C'è attacco speciale 5 Difesa speciale 13 Velocità 28 Solo per la natura La natura fa schifo Se no Era buono Era buono Comunque 4-3 Se volete che poi appena si trova un imidacente Meno lo tenghi in squadra Scrivetegli le grucia Oh no no Mirtillo no No Fai piano eh Mirtillo Te qui eh Te qui Non mi dai bacini Non mi dai bacini Sul dito Però devi mettere un po' su un po' di Senti Poverino Dilli ma mi avevano abbandonato Mi hanno dovuto imbottare Quando ero piccolo piccolo Povero Mi hanno dovuto imbottare Che c'è Che c'è vuoi Che c'è vuoi Che c'è vuoi Iniesta che tira Ragazzi a furia di cercare Evie No Shine Cosa vuoi cercare Di cercare Di Compare Mewtwo Di questo passo E c'è No Di sicuro Ragazzi Di sicuro Ma in tutto ciò Ragazzi C'è ditelo Si sentono bene i volumi O bisogna impostare meglio qualcosa Ditelo Che A furia di cercare Di compare Mewtwo Di questo passo Mi piace questa gomma Oh oh Mino Mino Ti ci faccio il lettino Mi sa che con questa live Tu ti fai più like E ti consegno Perché 20 like 20 Oddio ragazzi A caso Va benissimo Grazie Un bacione a tutti Baciamole le mani A tu Attenzione Ora si davvero Scusami Blaze Hai ragione Però con il lavoro Non ho avuto tempo Però Punizione Punizione dal limite Dal limite per l'Italia Ci siamo ragazzi Vedi Se c'era Pirlo Se c'era Pirlo Che abbiamo Pelè Chi la tira? Appare Schitti Ma Schitti C'è quel colorito Che non sembra shiny Schitti Sembra shiny E' carino E' carino Però sembra shiny Che è tutto quel rosino Così Da Si sente bene Così la cosa Chi tira? Perfetto Non parlate a caso Si sente bene Perfetto Ma perché Devo ritigare Scusami No ragazzi Via Stanno ritigando Arriva De Rossi E dice Muovete il culo Luca Luca Giacomini Scrive Hashtag 20 like Bravissimo Grande Luca Io però spero che la live La registra 22 metri No perché Ragazzi Vi ricordo La prima live Del canale Quindi 20 like Pazzesco Va benissimo Cioè sono contentissimo Cioè siamo contentissimi Io dico Lui farà più like Punizione ora pausa C'abbiamo da guardare la punizione Ah ecco Ron pareggia 4 pari Con Vidi No Tira 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 Sì Ecco Eccolo Eccolo Ecco Eccolo 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 La punizione Che l'ha parata Grande gol C'è Mettino Che ti sbocca Dando un po' Ma cosa fate Ragazzi Il quarto Ivi Di Ron Portabene Ragazzi Scriviamo Ron Portabene Il quarto Ivi Di Ron Portabene Ci siamo Ragazzi Sì Bisogna Levare questo Cosa devi Il cartellino Scusate un attimo Ragazzi Scusate Un attimo Adios E siamo In vantaggio Dentro Buttalo dentro Mettete dentro Ragazzi Hashtag La live Portabene Hashtag La live Portabene Diamo Tutti Tutti La live Portabene Hashtag La live Portabene Continuiamo Ora esce anche Lo shiny Lo sento Ragazzi Esce Anche lo shiny Go Vai Vai Vale No Poverino Dai 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 Ma come No Via Maiale Bleed Maiale Bleed Maiale Buttalo fuori Hashtag Lo dice Lo dice anche Ila Io fra pochino Però Ivi ha fatto Goal Ivi ha fatto Goal 4 pari E per ora Diciamo nessuno Buono Anche per Non so Anche per Soprattutto per Natura Ragazzi Le nature No Ragazzi Ron Passa in vantaggio Quinto Ivi Allora Natura Rush Cioè Più 10% Di attacco Di Difesa Speciale Questo potrebbe Andare bene Vediamo 29 15 No 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 Brutto anche questo Ragazzi Oggi Escono Tu Ivi Siamo già 9 Ivi Però Non Non va bene Non va bene Ragazzi Non va Bene Ragazzi Non litighiamo Abbiamo Abbiamo Già 6 cartellini gialli Stiamo Stiamo litigando Troppo in campo Ok Ron va a depositare Non fanno litigando Eh no Vedi che stanno discutendo Con l'arbitro Attenti ragazzi Perché se poi Non abbiamo la squadra Allora Noi andiamo a depositare Un attimo Cioè a depositare Mino Ci sono anche io Tra Fede 84 Oh C'è anche Battisti Ciao Battisti Aspetta Fagli vedere Mirtillo Battisti C'è un nuovo membro Del canale Fino a 21 Arreggilo E c'è un dislike Si chiama Mirtillo Si chiama Mirtillo No come un dislike No via Ragazzi ma Vogliamo mettere dislike Ragazzi Mirtillo poi Diventa Cioè Poverino Ci rimane male Ci rimane male Mirtillo Se mettiamo un dislike Due 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 Sì due Aia Tre Te lo taglio Non vuoi fare il video così Perché Stanno diminuendo i like Sì No via Povero Mirtillo Boh Vabbè Ma non sono tre dislike Sono due Sì sono tre Ma scusa E quanti like Cioè quanti Quanti like No a me A me dice Due dislike E venti like Allora qui ci vuole Hashtag 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 Ma quel cavolo Ma che Hashtag Hashtag Fate vai Hashtag Vuoi scendere? Hashtag Hashtag Ok no Vi diciamo Andiamo a vedere Nel box Vi faccio vedere Tutti i Ivi Catturati Ivi Catturati Ivi Due dislike Hai visto che sono due Due Dislike No sono due Oh Porco cane Guarda la foto Stai zitto Oh ragazzi Che ne posso dire Non capisco il perché Vabbè Ci sono anche dislike Su youtube E Ci sono anche dislike Che si accettano Però Se Se Ora lo parlo Se Siete sempre qua Quelli che hanno messo i dislike Venite in chat E ditelo Tipo Ho messo i dislike Perché E poi Se una cosa No è vero Non sai parlare Dico è vero Non so parlare Due dislike Eh i dislike Sono per chi non guarda Gomorra Vai Battisti Ancora noi Ancora noi Dove tu A casa Ok Ecco ragazzi Questo qua È E' L'Ivy Che ho catturato E che è molto Molto buono Info Natura Calma E non mi piace E non mi piace Più difesa Più difesa speciale E meno 10 attacco E guardate lì E' E' Aia Quattro Quattro È ribaltato Malissimo Quattro A cinque Per Ron Mi ha dovuto arrabbiare No tranquillo Battisti Questo è un gioco calmo Non mi arrabbio Se facevo altri giochi Mi arrabbiavo Ma questo no Comunque fatemi sapere Se avete visto Chi è che fa questo casino Levatelo per favore Levate questo casino Perfetto Chi era? Mutate Ale Grazie ragazzi Comunque dicevo Se l'avete visto Questo è l'Ivy Che ho catturato PS IV 21 Attacco 24 Difesa 25 Attacco speciale 28 Difesa speciale 18 E Velocità 31 E questo qua E' Quello che potrebbe Diventare Che potrebbe diventare Un Espeon No Ron Nolito è un po' Incazzato E certo Aia Quindi questo qua Nel PC Nella cartella Boni Nel senso che Questi qua Sono tutti quelli Buoni Di Pokémon Invece nel box 6 Abbiamo Ora rinominiamo il box Com'è che si fa Rinominare il box? Dream Ti sta dicendo Ciao Mino Sei sul TS? Dream Sì Siamo sul TS Però siamo Solo noi Se vuoi seguire Segui da qua E' per evitare Che ci sia troppe persone Per fare casino Quindi Non perchè Non ti vogliamo Quindi Solo per questo Infatti Ale Abbiamo mutato Perchè fa casino Quindi Ale Mutati Ma perchè non me l'avete detto? Cosa? Che facevo casino? No vuoi dire Ma l'ho urlato Nessuno diceva niente L'ho urlato io Com'è che si fa A cambiare Nome del box? Cadini Non mi ricordo Come si fa Sì tutto Sì tutto Il mio cane sta Sì tutto Che qualcuno gli apra la porta Ron Com'è che si fa A cambiare il nome al box? Nome del box Non si può Qui Ah ok Perfetto Niente Lo lasciamo stare Ho messo Tutti i Livi Nel box 6 Che abbiamo Cattolato finora E poi dopo Vedremo cosa farne Se mai Le scambiamo Con quelli della cinta Chi li vuole Appunto Vi ripeto Se volete C'è il tutorial Nella playlist Del canale Venite Andate a guardarlo Volete giocare con noi E se volete Degli ivi Sono a livello 8 Quindi potete usarli Anche da subito Ve li scambiamo Molto 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 Volentieri Noi continuiamo E appare Zizzagon ancora Ok Dream Però Oddio Non mi ricordo O mi ricordo Chi eri in CS Com'è che ti chiamavi Dream Oddio Eri Mirko Mi sembra No non mi ricordo Scrivilo così ti vedo In chat Ancora noi Battisti Ancora noi Strunz Mi stanno a picciare Pokémon Mi stanno a picciare Pokémon Qui ancora Shiny Niente Oh prima o poi Ragazzi Li catturo Io Io in tutta la vita Che ho giocato a Pokémon In tutto il periodo Diciamo Solo uno L'ho trovato Selvatico Cioè proprio così Stavo allenando i Pokémon L'ho trovato Era un Ma vaffanculo Blade Gnale Comunque dicevo In Pokémon Argento Alla Seconda città Quella dove c'è la gara Piliamosche Per farci Per intenderci L'ho catturato Nidoran Femmina Solo quello L'ho trovato Selvatico Ma così a caso Senza usare Tipo le cose Devi camminare Devi fare questo Devi fare così No no A caso proprio Nidoran Infatti io mi spaventai Dicevo C'era tutte le stelline Perché avevo il Game Boy Pocket Quello che si vedeva in bianco e nero E facevo tutte le stelline Dicevo Boh che cavolo è questo Poi sono andato a cercare Era Shiny E ho fatto Bellissimo E solo uno ragazzi Non ho mai avuti in vita mia Shiny Solo quello Quindi Speriamo di trovarli Comunque si Mirko Ok Mi ricordavo bene Manux Recupero le sette sfere del drago Per Per chiamare un Ivy Shiny Perfetto Mi sa che serve L'Italia Vicina al secondo Ragazzi Mamma mia Siamo quasi Stiamo attaccando tantissimo Gli Shiny Inventati Con la generazione Con la generazione a colori E infatti la seconda Però io Non la giocavo a colori La giocavo nel Game Boy Pocket Che era sempre in bianco e nero Infatti Ragazzi Ragazzi Dai Compari Dai che vedi che magica porta bene Almeno Almeno Ivy Eccolo L'ho chiamato Ivy 5 Ivy 5 Ivy 5 5 5 5 5 Gasta Gasta Gai di 5 5 E' giusto Però come fa a essere Pikachu se ti chiami Leonardo Un casino eh! Mamma mia! Maro! Maro! Signore santo! Ciao Pikachu! Salutiamo Pikachu! Ciao Pikachu! Anche a noi ci piace! Lei no però sì! No a me no! Uscite Shiny! Intanto ragazzi 5 eh! IV5! Asta che IV5 è il catturato IV5! È andato al... Eh? Ok box 1! Natura calma! Mamma mia! Ragazzi! Mutate! Mutate! Mutate il seguente della partita! Natura calma! Ok! Ragioniamo qua! Più difesa speciale meno attacco! Dai un minuto di recupero e poi... Non sono buoni! Non sono buoni quelli che stanno uscendo! Senta! Ancora IV! IV6! 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 VI6 6 6 6 6 6! Univi Shiny alle statische più alte giusto? Non lo so sinceramente! Mi sa di no! Mi sa che proprio a caso! Grande lui! Mi sa che proprio a caso! Come gli altri! E' solo Shiny! Infatti anche Rondi c'è a caso! Scusate che va via! Si prova un po' di fruscio sottofondo Comunque Eevee 6 Eevee 6 Eevee 6 Eevee 6 Eevee 6 Eevee 6 Si supera Si supera Ron Ron Sorpasso Manu chiede se un Eevee Shani ha le statistiche più alte di uno normale Purtroppo no Magari Magari fa anche schifo Può averle anche più basse Magari Quanti siamo? Vedetevi un attimo i spettatori e quanti like e dislike? 9 20 like 0 dislike Ma come serve? No via Non ha senso la cosa Non ci voglio qui Quindi 7? No è sempre il solito 8 spettatori 20 like e 0 dislike Cioè la gente Cambia 20 like e 2 dislike 20 like e 2 dislike Eh ragazzi togliete dislike Cioè non serve a niente Ci stiamo divertendo Non è che sto qui a offendere la gente Quindi non credo Amino ok E così me la metto Strund 12 Grazie Luca Stanno Catturato il sesto Catturato il sesto Il sesto sesto Attenzione Bashful Cos'è Bashful? Bashful Bashful Non è una natura Non so cosa sia Neutra Ok neutra E fa cagare anche questo Che covolo però Su 6 nemmeno uno Ragazzi Nemmeno uno Sì infatti lo so C'è scritto No Che è successo? Stanno comparendogli Ivi Chi l'ha vista ha fatto il suo dovere Hai ragione Ivi stronzo No ma poi è entrato Vedi non è tanto strutto Però Manux è uscito Cos'è successo? Tutto a posto Manux Che sei uscito Ma è uscito te O sto sbagliando io? No è uscito proprio lui Ok Attenzione Ron però Sta tanto nella battaglia Ha trovato Un Ivi Mi sa Ron lo dice Ma ha trovato un Ivi Momento ragazzi Tantantata Tornato l'ore Ma l'ore Ma l'ore fruta Dico eh Sei In live Ci sta venendo in live Da Dal Coos Ground Se è così Pazzesco Bravissimo Grandissime Ragazzi Comparano Ma ieri era Il Coos Ground Ieri, ma mi sa che c'è anche oggi, eh? No? Ma che cazzo è finito? Allora, il CUS è il centro universitario sportivo e il CUS Ground è, diciamo, una manifestazione dove giocano a basket è un ritrovo, cioè, cose così è un ritrovo di tutti gli appassionati di basket o di altri sport C'è anche la breakdance e queste cose qua e niente, fanno spettacoli è come un ritrovo, invece di andare in città, va il CUS e c'è il CUS Ground, cioè, è molto bello, è fatto molto bene Non ci siamo andati quest'anno? Quest'anno no, era ieri sera... La finale c'era io C'era la finale, c'era la finale delle schiacciate, ovvero, bellissima ragazzi mi sa quella più seguita dove ci sono dei ragazzi che giocano a basket che da diverse distanze fanno le schiacciate e vince quella più bella Fantastico Sono passati per alcuni gli shiny ancora Lorenzo non dice niente ancora Però se c'è... Alex... Oddio, aspetta, c'è uno nuovo Alex... Mancin Ciao Alex! Non l'avevo letto prima Cioè, no, ciao Alex, ciao No, perché hai detto magari Non so cosa voglio dire È degli shiny Ah, ok Eh, non lo so, ragazzi Oh, ecco Manox è tornato, Manox è tornato Ancora Abra Dai Abra, però, eh Facci trovare... Se vieni shiny, c'è un Abra shiny molto bello Quindi, per favore Ancora noi... No, no, è Ron 5 a 6, 6 Mi ho presi 6 Perché era 5 a 4 Poi 5 a 5 Poi subito un 5 a 6 Perché lo trovo subito Partita ancora non iniziata Siamo nelle spavoleture 1 a 0, ragazzi, per l'Italia Stiamo giocando sinceramente molto bene Cioè, non me l'aspettavo Come gli spettatori Ma ne hanno persa una Ma ne hanno persa una perché C'è il suo perché sotto Io però inizio ad avere un po' di fame Chi è arrivato? Eh, c'è... Eh? Oh! C'è Kainer Grande Kainer E' grandissimo Un abbraccione Ma dorme? Giacomo Eh? Dorme? Dillo Sì Dai Ma perché devi rompere le scatole mentre dormi? Oh, via! Non posso accarezzare Ma... No, perché lo svegli E' caduta la linea, ragazzi, Manu Tranquillo, tranquillo Tranquillo Ti aspettiamo qua Ti aspettiamo Ma sei online però non ti vedo Perché prima eri qui Quanto siamo ragazzi? Quanti ivi? Eh... Siamo 6-5 per me Superato Ron Prima ero in vantaggio Recuperato subito così Pam 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 Hashtag recupero fulmineo In chat Allora, Amino Che c'è? Cà voi Dopo la partita Eh? Ti fa un 1 di 1 E c'è un altro ivi Scusami scusami per dirlo Altro ivi 7-5 7-5 7-5 7-5 Lo lo catturiamo subito Allora Allora Che ne scrive Grande Mido Sono veramente eoforico E lo so anche io Ma quando fai un gol contro la spagna Senti ma hai detto che hai fame no? Ma cosa vorresti mangiare? Eh buh non lo so Ma siamo da soli a casa? No Eh Attenzione ragazzi Settimo ivi che catturiamo Natura neutra Niente Recupero Niente Brutto Brutto anche questo Ron Tu che sei esperto Quanto costano gli ivi così? Cioè se vogliamo andarli a vendersi li comprono eh? Li mettiamo non so a 10.000 O è poco? Attenzione Ron Sesto Sesto ivi di Ron Natura impish Si sta ricominciando Stiamo ricominciando Stiamo ricominciando Poi che parata hanno fatto? Allora Allora Mido Anche Ron Che non trovi oggi nessun Tu lo sai che tutta la settimana Eh abbiamo avuto varie occasioni No No Possiamo farla alla prossima partita ragazzi Eh Quanto Ditelo in chat Di quanti di voi Eh ok ciao Dark Vorrebbero che alla prossima partita dell'Italia Mino Venisse a rompervi le palle Per non farvi vedere la partita Fatecelo sapere che si rifà Allora io direi di no Anche perché Mino sai com'è Gli adolescenti si deve uscire Si deve andare a cercare il Piru Il Piru Il Piru e anche gli shiny Ragazzi gli shiny con Pokémon Go eh Voglio vedervi tutti con Pokémon Go Ciao chi sei? Ah Mirko ok Burro Puoi parlare volendo No Sta ricominciando Comunque prima c'era Non so c'era Alex Che non so chi sia Non l'ha più commentato Comunque Boh è andato via Poi c'è Mami Poi Lorenzo Lorenzo che non ha più Neanche lui non è più scritto Kenner Se sei sempre qua Facci Dacci un segno Chi è Kenner scusa? Kenner è un altro youtuber Amico di Varda Ah si ho capito ho capito ho capito ho capito Luca Giacomini mi sta dando Non posso che mi danno Mi riempie il cuore di gioia quando cazzo scrive Perchè? Basta con uscite gli shiny No ragazzi prima o poi arriva E voi aspettate come il gol dell'Italia prima o poi arrivano Anche se Zizzagon shiny non mi riega niente Secondo me il primo in Italia che fa la live sulla partita Io? Boh non lo so Ma nooo Non credo Ma credo ci sono tipo Ci sono Cioè noi lo facciamo anche su Pokémon Ma invece mi sa che c'è qualcuno che Non fa la live ma fa il video Cioè fa il video e poi se lo monta Come so tipo Perché nessuno spamma? Io voglio mettere l'utente in time and out C'è brutta cosa Invece no No non si spamma Sì 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 Anzi sono io che spammo ragazzi E vi scrivo in chat E vanno te Sì arrivo Scrivi in chat per favore Il ts dove ci troverete Che è ts.tigergames.it Ora lo scriverò in chat Vabbè no ma noi siamo c'è il nostro privato Che è privato Invece poi siamo di là dove appunto c'è la stanza pubblica del crano di GD9 dove potete entrare quando volete Cioè posso entrare anche io alle 8 di sera e ci sono tre persone dentro Cioè se volete giocare anche lì dentro entrate Tanto noi siamo È pubblica quella stanza lì Ve l'ho messa pubblica Non mi ricordo cosa devo scrivere Cosa devo scrivere? Eh ho tutti in pubblica ragazzi E parliamo degli ivi che Ron è 7 7 a 7 Natura Na Nauti Cos'è? Ah 10 attacco Attenzione attenzione Niente Ragazzi siamo sfortunati eh Cosa devo scrivere? ts.tigergames.it È tutto minuscolo Che questo ragazzi Aggiungetelo Mi non inizia l'Italia Ah no ancora a me no C'ho la televisione qua Non ancora a me non inizia Comunque beh ci siamo eh Siamo attenti Siamo attentissimi ts.tigergames.it E fa un bel pokeball con la coda e la pokeball va in faccia e il portiere lo cattura Di games Si scrive così? Di pensieri di Valerio Ah Mi no ts.tigergames.it E manda Ah si è tutto così Sì Ecco ragazzi questo è il ts dove appunto ci troverete E Eeeh Entrate nella stanza clan 99 che la trovate mi sembra a metà della cosa ma mi sa che ci sono anch'io dentro Ho mutato perché appunto sto facendo di qua la live Comunque intanto Intanto voi entrate lì così dopo si parla Tranquillamente Intanto qua siamo 7 pari di ivi quindi 14 ivi sono usciti e nemmeno uno è buono ragazzi nemmeno uno Porcaccia la miseria Ron fermati un po' Ron ti dico di che devi fermarti Ti devi fermarti Ah ah Comunque visto che inizia la partita io direi se trovo un ivi no Vado un attimo in bagno Time out Time out Time out Di pausa e poi torno subitissimo 5 secondi ragazzi Datemi 5 secondi voi non andate via Quanti spettatori siamo? 12 12 12 ok Restate 12 e arrivo subito Tanto c'è Ila parlate con Ila Ah Ila Vai vai vieni vieni Dammi le cuffie perché non lo sai Le cuffie e parli con Ila Hashtag momento Il momento di Ila Se non ti muove e riparte la partita Ah mi fai gasca al gatto Ma non parla nessuno Ma non parla nessuno Vai Blaze cosa ti mangi? Un po' di cracker Bravo Ma così non sento più la partita con le cuffie Occhio al gatto Giacomo Voi vi immaginate? 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 Il gatto cammina E gli morde quella cosa che è penzola Veramente Mino Non è andato a fare la pipì Sta mangiando Ma posso giocare io? Sì il gatto che gli sale sopra X e Z Gli sale sopra la cosa penzola E le percettine si muore Percettine 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 Con la mano destra Percettine Percettino dal picello Le mosse uso quelle che mi pare? No Ho pigiato A Solo con Livi usano le mosse L'altro fuggi Ah Però perché ha fatto uno screenshot? Perché stai usando? Ne mangiamo eh X e Z Ah ho capito A No X e Z A e B E ti muovi con queste qua Vedi anche qui Ti muovi Vedi X e B Torni indietro Questo non è shiny E vai via E continui a cercare Iniziata la partita Ma noi no Sì Nel senso Boh Ora riparto Il silenzio A Dark non c'è più? Sì Sì Magari Manu Ma non scrive Ora io la trovo Ivy Shy Non ne ho trovato nemmeno uno Scusate se non sto tanto ma scusa Salve Ciao Un attimo di problemi Ciao Ma c'è qualcuno? Giacomo ci sono in frigo Sì Sto giocando io A posto Ma io volevo guardare la partita Mino è andato a farsi Uno spuntino Invece Io sono trasciato Blazia è trasciato E gli altri non parlano Bene Ma siamo in live Sì E' ricominciata la partita dell'Italia Ok E stiamo subito attaccando Ti vedo Ti vedo Mina Ciao Sono tornato anch'io eh Quindi ciao a tutti Oh No Cosa ha sbagliato Cosa è andato a prendere il mio artista? Il cibo? Sì Sono qua eh Sì sì Tanto non ti senti perché ce l'ho io le cu Non le puoi lasciare lì? Eh ma mettiamo questi Comunque ragazzi Hashtag MinaPortaBene Guardate ora Ora esce uno shiny Tutti scrivi Hashtag MinaPortaBene Tutti e tutti Porza No Cosa mi hai scritto? Scrivimi che ho chiuso la chat Ho sbagliato Cosa mi hai scritto? Non mi aveva scritto qualcosa E ho chiuso la chat Ma la mente Sta forse No Ah Premo V Ma non riesco A far cosa? E che è il word kick from the server? A casa? Come sarà? Ah So io perché non riesco a parlare Aspetta Ah chi? Ho sbagliato Mirko Vai Adesso puoi Ciao Ecco Ciao Mirko Grazie Luca Non ho trovato nemmeno un live La stanza è moderata E quindi non Potevi parlare tu Ok Ma io voglio cambiare giardinetto Oh Fammi picchiare Attenzione Dove sei andato Blazo? Ma perché? Ho cresciuto di nuovo? No Fatemi un segno di vita Mi sentite? Si si Ah ok No 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 Mino porta bene Paga Ora Ila trova Yveshine Ila inizia La partita Inizia la partita Il momento Basta Blaza? E' morto Ah mutato Blaza E' ancora che non parla Aspetta aspetta Vai Parla adesso Va già Tanto Calcio di punizione Per La Spagna Sono cascato Eccomi Ti ha dato qualcosa no? No Nemmeno Ron Qui Mina porta bene Mina porta bene Via di lì Via di mamma mia Oh cosa fai? Migrati? Guarda con i migrati Guarda con i migrati Guarda Ho fatto paura Non facciamo Non facciamo cavolate Da quanto tempo siete live? Da quanto tempo siete live? Dalle 5 e mezzo Vieni Mino Non lo dice Ritorno Le mie orecchie Senti che cade Ah vado via con la sedia Rieccomi Ma strano o Gli aerei non sono ancora Non lo dire Sono passati Guardate cosa ho scritto in chat Momento spam Passate a team Si Mi pare giusto Giustissimo Ragazzi vedi ora è il momento che ho un occhio Mi vado a prendere il decreto Ho un occhio sul gioco e un occhio sulla partita E un occhio sulla chat E un occhio sulla chat Basta team e Nawa BASTA Ragazzi team vi frega eh È arrivata la bolletta e la team vi frega Non sono team Io Tutti la paga in attivazione Sono già Bravissimo Ah si sono team Sono con telecom italia team No la roba va Aiuto Team? Lo avevo malamente Dark Dess slime Shady Non so come si pronuncia Dice le connessioni italiane fanno schifo Giustamente È vero È vero Comunque ciao ciao Non so che Che tu sia O forse mi hai commentato qualche video Non mi ricordo Comunque ciao Ciao bellissimo Minodi benzierino È un negozio È un negozio È un negozio Ragazzi Troll Troll Bastardo Sveglia 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 È un negozio È un negozio È un negozio È un negozio E' un negozio È un negozio E' un negozio E' un negozio E' un negozio Scusa 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 No No Non il video La live Che ha fatto L'ultima Ah la live Su Youtube No Io parlavo Eh scusami Voglio dire la live Scusami Comunque quanti siamo? 10 10? Come eravamo in 12 E' arrivata anche gente nuova E poi siamo venuti uniti Oddio ragazzi Dai dai che si guarda la partita insieme Ne siamo un po' A risparmare il video Su Facebook Su Google Plus Su tutte le cose Su Twitter Non ce l'ho Dai ragazzi abbiamo anche altri 45 minuti Ma tutti stanno guardando la partita E' certo che guardano la partita Anche noi Parlate di Pepeo 3393 No Di Pepeo 3396 A caso Pepe 316 No Parlate di Si Pepeo è uno dei nostri youtuber preferiti Anche noi Xander No 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 è Pepeo Xander è troppo brutto Ti spazzo Ti spazzo Ti spazzo Ti spazzo Guardate come gli spagnoli fingono Vaia Guardalo Mamma Le usano tutte Vai mamma Guardalo mamma Le usano tutte Vai mamma Guardalo mamma Sì Dopo sei anni Attenzione scusate Se sono Vai Tirati Nooo Perché Nooo Nooo Ragazzi no scusa Ma si sente Eder 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 Ma ha fatto una parata per l'altro Non so impossibile Ragazzi il portiere della Spagna ha fatto una parata Eder da solo davanti porta Contropiede Che cazzo Si sente che fa dai 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 Che parata ha fatto No no Io guarda spero Ragazzi Astag che parata ha fatto Ancora tu stai stag No No non inciampare Astag che superi il culo Astag che superi il culo A chi? Ma che ne so Guardate che parli Grande Luca che segui Pepo Xander è meglio Allora parlando di youtuber Noi Noi tutti Cioè la maggior parte della Gilda Siamo nati sul TS di Luke Poi siamo sposati su Xander Eh ma poi Te Xander sei arrivato dopo sei arrivato Quindi stai buono Infatti siamo nati nel TS di Luke Dite Luke un'altra volta a Banna Luca Sentivo un rumorino No è meglio Mino C'è un trattorino accanto No 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 è meglio Dovevamo chiamarlo trattorino A posto No è il filo No è meglio Mino hai visto? Ahah bene 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 No No se lo fai ti butto fuori della Gilda Oddio Xander è meglio È meglio Xander Adesso spammo il Ma qua ma dai lo conoscono Cosa vuol dire? Spammi che lanza Cascato malissimo Eh ma si lanciano loro Le provano tutte ora le provano Le provano tutte E intanto qua Niente shiny Ragazzi Niente shiny A tromparsi Comunque Ragazzi Visto che appunto Il Donator L'abbiamo attivato per sette giorni Vi ricordo che Io abbiamo anche un profilo Instagram Quindi se tipo in questi sette giorni Troverò qualcosa Gli farò la foto Lo metterò lì Quindi Basta andare nella pagina Del mio canale E Cliccare in alto a destra mi sembra L'Instagram E c'è la nostra pagina E seguiteci Così vedrete Se trovo degli shiny Spero ragazzi Che si esce Ragazzi Ragazzi Guarda guarda che parte ha fatto Cioè che parte ha fatto Che passaggio ha fatto Per lei ha fatto un passaggio Ah no Li ha tirato addosso Li ha tirato Ma pensavo Ah però le palle Ah Non pensavo le palle Comunque no pensavo nel braccio Mamma mia Eh dimmi no A caso proprio Eh? Sto commentando la partita Ed R aveva tirato prima Io pensavo Avesse parato il portiere Con il braccio invece Con il corpo Li ha tirato addosso Oh comunque Bello il tiro Ed R Eh infatti Molto bello Uscite Uscite gli Esci Eh Se escono Vanno a momenti Vanno Silenzio Sto attaccando Sto attaccando l'Italia Oh Mino Un omic chiede a Chloe Se possa entrare nel tuo buco Cosa Cosa Fai La metterlo E' tanto Ila che mangia Mi amo Mi amo Mi amo Sì Sei chiusa la live di Mino Fa piacere Io ce l'ho qua accanto quindi No scusate Come sei chiusa la live? Qui? No la La mia scheda di Mino Ah ok No scusate se non parlo più ragazzi Ma è successo Un po' di casino Porco Questo tipo che passa acqua è caldissima Bah Com'è che si chiama lui oddio Pichè 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 si disinteressa del pallone e ferma col corpo No per caso li ha montato sopra Ed R E li monta sopra nella Cos'è? Cosa c'è qui? Mmm Comunque questa parte qua Non mi so se lo vedi Questa parte qua del corpo E col tacchetti E patate anima Anatomia Eh? Si la parte destra degli addominali Però non ricordo cosa ci sia Scusate Anatomia Niente E' vuota E' vuota E' vuota E' innanzitutto mentre succede questa cosa Innanzitutto quello dico Ehm Ottavo Eevee per Ron Ron è buono? Vuoi crackerci? Perchè va a vendere? Perchè va a vendere? Attenzione Ron va a vendere Perchè non è buono? No No non è buono Anche se c'è un 29 Perchè non è buono Niente continuiamo Ron va a a a a vendere Vendere cosa? Gli ivi? Tutti i ivi a 10? 10.000? E ora dopo vado anch'io Mi sa che tipo Farò un po' di soldi eh Tanto ragazzi gli ivi servono Perchè Quelle che abbiamo trovato Hanno solo la natura Che non va bene Cioè le mosse Mosse Oddio non mosse Le ivi potrebbero 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 essere buoni Ma per qualcosina Tipo per essere Trasferiti al figlio Con le uova Niente Niente di che Ehm Quanti siamo in chat? Scusate che non sto guardando più Perchè 8 8 Stiamo diminuendo Perchè appunto tutti si Guardano la partita Giustamente Che si sta scaldando Ragazzi eh Si sta scaldando E quindi Anch'io Sono già Non con un occhio solo Ma con un occhio e mezzo A vedere la televisione Betti allora Oggi Un ventino per accanto Perchè? Per la fredda No via No perchè Io bevo l'estate a freddo così E ovviamente ragazzi L'estate Ehm Mi ha dato C'ho la partnership Quindi i suoi soldi Per far vedere Ehm Ehm Certo Come no Come no Cosa mangi? Ehm Mi ha trovato crackers Via Mirtillo Cosa fai? Ron Cheater Ehm C'è gente pure che sta andando a mangiare eh Comunque siamo a 9 adesso A 9 Ehm Ma c'è ragione C'è ragione Ma scusa Mangiare alle 19 e 19 Ma va bene? Ehm Ma va bene? Ehm Ma io mangio all'8 Appena finita la partita mangio Ecco Vai Noo Ma poichè Ma porca E' passata tra le gambe Gli è passata Porca Tornate Tornate Non fate coglioni Tornate subito Tornate Non fare Si te lo do Ho capito No faccia Non facciamo Non facciamo Scusate Vieni qua Mirtillo Attento 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 Mirtillo Mirtillo Intanto Luca è l'unico che Che commenta Vieni qua Grazie Luca che sei attivo Te Ron Cheater Siamo a 10 Ron Boo Boo Perché? Cosa è successo? Non mi interessano i miei posti Quali fatti? Cosa è successo? Stasera non ci sono Dove vai? Fa scritto una persona e devo andare via Aia Una persona a cui non posso dire di no Eh infatti Infatti ragazzi come si sa tira più un pelo di eh che i pokemon giustamente Ebbè ovvio Ebbè ovvio Però potrebbero tirare di più gli shiny di un pelo di se uscissero Perché è pieno di figa Esattamente In Alaska non c'è Che è schifo Noo 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 Perché è schifo Ok aspetta no Commentiamo commentiamo Perché Perché è schifo Perché è schifo Ora non so se lo vedrà fra 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 20 secondi Ma no poi in coerenza Ha scritto Gengals nel nome Ma che mi ha detto questa? Schifo Perché? Punto interrogativo Eee Fascinatrice Eccolo vedi vedi Caterpie ragazzi Manux io su pokemon giallo Nel gameboy avevo un Caterpie livello 100 Ti dico solo questo L'utilità L'utilità di un Caterpie Oh ragazzi ma sparcava i culi a tutti eh Azione boom Sfondava tutti Boom Ora mettiamo Ah infatti Se ti fanno schifo perché ti chiami Gengar E Luca ha ragione però eh E Manux è lì Perché io cosa ho detto 3 secondi fa? Eh ma non l'hai scritto E il live avviene 20 secondi dopo Il misterio della vita Il misterio della vita Si chiamano questi Se Blaze non scrivi Ah via Via Ora 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 Blaze che Ora Blaze che c'ha il computer schifoso Ora ora Come fai a reggerlo? Poi dici il computer mi esplode grazie al cavolo Eh Via Ti fai farlo esplodere così Babbo è esploso il PC Eh Eh Comparmelo now Eh Comparmelo now È esploso E che ci posso fare? Eh beh Un PC bisogna avercelo Ragazzi catenaccio Siamo 7 contro 2 Cioè è bellissimo Attenzione però 7 contro 2 Teniamoli Teniamoli Attenzione Teniamolo Teniamolo Non passa Non passa Non passa Non passa Non passa Non passa Innanzitutto Mi scendono le cuffie Accidenti E' qui Grazie E' l'account di un mio amico Ah Ma tu che ne sai Guarda Sto vedere stai zitto Oh ragazzi Non le tagliamo in chat eh Beh Scrivi per favore Non le tagliamo Allora ragazzi Il prossimo che ci sono discussione Io blocco Posso 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 Non le tagliamo Non le tagliamo Non le tagliamo Non le tagliamo Tranquilli Tranquilli Allora No Perché Ragazzi Bisogna Parlarci Gengar Oppure Lol Oppure Non so come chiamarti Scusami Il gatto cade Il gatto sta cadendo Bravo Mirtillo Cadi Vai 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 Attento al mouse Non clicca niente Secondo me Mirtillo è un pervertito Dove è situato? No dicevo Lollo Dici perché Non ti piacciono i pokemon Cos'è che ti piace? Parliamo Cioè Non è che Quello 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 a tutti Il pilu Ce n'è più per noi O Mirtillino O Mirtillino A post C'è No no Ora quello lì lo levi subito Ora mi incazio con te eh Dark e monello La cacca di Mirtillo porta a fortuna Ivi è tornato Ragazzi Com'è Ivi? Scriviamo tutti in chat Ivi Quanto è? Otto Ivi otto Ivi otto Ivi otto Oh oh Mirtillo Stai figliato Fa casino Fa casino Il cavo Il cavo Del microfono Mirtillo Eh Siamo tutti felici e contenti Finora Ecco guarda Mirtillo ha scritto questo A dopo Ecco Mirtillo è quello che ha scritto eh Ragazzi Mirtillo ha scritto qualcosa Comunque diciamo Boh non so che fare Vabbè hai fatto bene a venire con noi Cioè non ti piace il Pokemon Però se stai seguendo l'Italia Sta seguendo l'Italia con noi Luca tranquilli Tranquilli ragazzi Non siamo sarcastici Perché vi ricordo che non siamo faccia a faccia Ma siamo su Una chat Quindi non si sa se uno commenta sarcasticamente o no Quindi possiamo anche essere Eh Siamo messi bene Se siamo nelle mani di Britt Provocativi contro Quello di fronte Non so cosa dire ragazzi Sto cacchierando a caso Perché sto Ascoltando la partita Iriotto Ok Dark è andato a mangiare Quanto siamo? Quanti siamo? 9 9 Grazie mille ancora a tutti ragazzi Ragazzi basta esegare pensiamo a tutti Pensiamo a tutti i whooper che nuotano sull'acqua Senza mani Ricordiamoci E guardiamo i whooper Attenzione Ron Nono Lo ritrova anche lui E' buono Andiamo a vedere Allora innanzitutto guardiamo il nostro Questo è il nostro Più 10 difesa E' 10 attacco Minno facciamoci Oh oh Ragazzi Si Eh si va bene va bene Ragazzi facci una felice Perché il nostro ivy e' buono Eh i whooper della vita 28 Attacco 30 Difesa 14 Attacco speciale 24 19 Verso 19 Cioè non c'è niente sotto al Forse difesa 14 Ma è buono 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 Vediamo quello di Ron Ron non 9 8 siamo Ardi Ardi che è? Nessun cano di stato? No Ok ragazzi uno buono l'abbiamo trovato Forse la natura fa un po' schifo Perché c'ha più di 10% della difesa Ma la difesa era 14 Quindi niente Controliamo di nuovo la chat Oltre alla partita Ehm 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 Gengar Glory Perché è il suo telefono Ehm Infatti ma non ha mai commentato il No Oh signore come si soffre Mamma mia mamma mia mamma mia che figlio Ehm Non ha mai commentato sotto la prima volta che mi sembra lo vedo quel nome Quindi Non so siete iscritti se non siete iscritti iscrivetevi se vi fa piacere Però se non vi piacciono i pokemon lo so forse a lui si Perché si chiama Gengar Quindi se vi piace noi trattiamo anche pokemon quindi iscrivetevi Iscrivetevi al canale amici Non morditi la coda Non mi importa solo Aiuto perché Eh Troppo è proprio solo pokemon Proprio è proprio solo pokemon Ha 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 Wopen può parlare gelopugno Si lo so luca eh Purtroppo succedono queste cose brutte Ehm E quindi Per questo che va male il mondo eh Se uno fa gelopugno Utilizza le freddure Si Ok 9-8 Si Manux 9-8 Mi odio scusate il mio amico è un coglione Perché? Ma Perché Ah Perché è tornato Mi sa che questo qui è il vero account No niente Tranquillo Cioè Ha fatto benissimo a venire qua Ora Cioè Uno può dire quello che devi dire Basta che non offende nessuno Non Non bestemmi o quant'altro Però Abbiamo un nuovo Eccolo Animus Animus Ciao E qui l'Italia soffre però eh Non ci fate distrarre Scusate se ragazzi Ricordatevi sempre che la chat è 20 secondi in ritardo Quindi se vi saluto in ritardo è Ecco questo Non so neanche perché Guarda questo video No ma ci fa piacere anzi Se vuoi Se vuoi iscriviti Se no vabbè Ma guarda guarda come si compra gli iscritti Io mi compro la gente mi guarda i video quindi si Oh Ma vieni oh Gobellino de Se non sapete noi siamo di Pisa E si soffre ancora Settantesimo Dai ragazzi Dai ragazzi Resistiamo altri dieci minuti Eh E poi altri dieci Ancora Perché? Eh Finisce al novantesimo Sì al quintesimo Comunque a me piacciono i Pokemon Grande Gengar infatti noi trattiamo sia Pokemon che Minecraft Ora Minecraft un po' meno Perché appunto c'è una serie che bisogna starci dietro quindi organizzarla Quindi molto meno perché abbiamo un po' da fare col lavoro Però Pokemon lo portiamo spesso perché è facile portarlo Giusto Eh Gengar chiede perché cerchivi visto che è entrato adesso Ah ecco Vai Allora Siccome non ha nulla da fare Ma cosa? Deve rompere solo le palle Mino Deve animo In una live del cazzo In cui dove c'è stare univisciani Per venderlo su Pokemon E poi guadagnare i soldi Tutto questo quando lo deve fare? Quando c'è la partita Esattamente E se no quando mai non deve rompere le palle Mino Ma per favore Se non rompe le palle non è Mino Vabbè ragazzi noi stiamo facendo la live perché Abbiamo su consiglio di Ron che è il capo del team Kyogre Si team Kyogre che è su Pokemon MO Un attimo Un attimo Un attimo Un attimo Un attimo Un attimo Ssss 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 Perfetto posso parlare Forza Forza però che è? Soul Ma Come fai a vederlo? Forza Italia Forza Italia Allora la cosa è questa Per queste persone che sono nuove Non andate via Ascoltate cosa stiamo facendo Su idea di Ron che è il capo del team Kyogre dove siamo noi su Pokemon MO E se volete giocarci andate sulla playlist del mio canale del tutorial C'è come giocarci e venite a giocare con noi Stiamo provando perché abbiamo acquistato un bigliettino Che qui si chiama un donator mi sembra Che acquistando e utilizzando per 7 giorni abbiamo il 10% in più di trovare Shiny E noi cosa abbiamo detto? Andiamo a dove si trova Eevee Shiny Proviamo a cercarlo Se si trova si vende Costa circa 100 milioni su Pokemon MO Lo vendi Hai tanti soldi Quindi ti fai Metti i Pokemon alla pensione Li fai crescere Li fai fare le uove Quindi bread di Pokemon se ti dice così E fai dei Pokemon fortissimi per andare a fare i tornelli del competitivo di Pokemon MO Questa è la cosa Mamma mia Mamma mia Oh signore che sta succedendo Mi fa male il cuore E comunque questa è la cosa E però Visto che è noioso stare qua a cercare Shiny E basta Perché se no saremo in silenzio tutto il tempo Guardiamo anche la partita Italia-Spagna E' per questo che l'abbiamo fatta in questo orario qui Quindi benvenuti a quelli nuovi Che sono Soul, Gengar, Animus Asta che forza Italia è grandissimo E quindi è questa la cosa Quindi grazie mille Se non siete iscritti al canale Iscrivetevi se vi piace quello che portiamo ovviamente Non voglio costringere nessuno E come a commentare c'è la Gido De Nove Guardatevi di Mino ragazzi non vi invitate Lui vuole che voi vi iscrivete e mettetela Ma cosa? Se no viene a casa vostra e vi tira un mirtillo selvatico in faccia E infatti ragazzi Mirtillo è il nome del Magikarp che ho dietro di me Si chiama Mirtillo è più un'altra persona Qui c'è Mina Grande Luca Giacomini Signore mio io ora mi sposo sto Luca E' troppo bravo Grande Luca Grandissimo Oh stai calmo cont 22 like 22 like Grazie ragazzi Grazie mille Grazie mille Comunque spero abbiate capito tutto Gengar dice che vorrebbe giocare anche io Dico vorrei giocare anche io Infatti Gengar Se vai playlist e tutorial sul mio canale Vieni nelle playlist Cioè per il tutorial come giocare a Poké MMO Quindi ti spiego tutto E appena entri Puoi riscrivere il TS quello di la Si Noi ci troviamo sul Il TS ts.targetgames.it C'è proprio la stanza pubblica Clan La gelda dei nove E voi entrate dentro E' pubblica quindi Non c'è password Niente entrate lì Io tante volte mi ci trovate Quindi chiacchieriamo un po' E se volete entrare da lì Mi dite come vi chiamate nel gioco E ci aggiungiamo Tranquillamente ragazzi Ma sei comodo Esatto competitivi Sì E se siamo in tanti anche Si fanno i tornei I tornei In passato si facevano poi Palla lì E in tornei si facevano Intenzione Mamma mia Ragazzi Però si soffre Si soffre Ragazzi Io ripeto Mino ci farà più like In questa live In tutti i video Che lui abbia fatto In tutta la sua vita Siamo arrivati Vorrei farvi vedere La posizione di Mirtillo Cioè Mino guarda Eh? Guarda dove si è messo C'è il gatto ragazzi Che è accanto a Ila C'è la sedia Fra Lo schienale E lei Qui Proprio così Vabbè Mino Oltre Mino Oltre MMO Non ci vuole stare Sulla copertina Esatto Le live Noi abbiamo cercato Perché abbiamo detto Andiamo a cercare Le shiny Non si è mai fatto E poi Vi ricordo che voi state commentando E state vedendo La prima live del canale Ragazzi Quindi la primissima live del canale E qui stiamo soffrendo C'è la prima live Perché Oh signore Ragazzi questi spagnoli Eh vabbè Mi ha fatto il catenaccio Ragazzi non passa più niente Ma Volevo dire Eh ragazzi Ok Eh Vediamo un po' se mi sono perso qualcosa Mmhm Come dire E si arriva Si sta scaldando qualcuno 30 like Stanno dicendo I mobili Dai ragazzi sono 24 like Grazie mille Mino Compra 5 armi Su CS Perché oltre a pokemon Giochiamo anche a CS Ora non facciamo serie Ma giochiamo così Nel competitivo Dai Sei arrivato a 30 spettatori Vai o fatelo Andiamo Forza Iniziate a condividere Vai Dipende quali armi Non voglio spendere tipo 100 euro Eh Mino Allora Ti conviene lavorare per 3 mesi interrottamente Eh Via Maiale buffon ragazzi Maiale buffon Mino il cacciatore di shiny Eh Proprio Averli trovati ragazzi Comunque vi ripeto Abbiamo messo Ts.tigergames.it Io sono Mi sa già lì in questo momento Quindi se volete passare dal TS Di là Io sono lì mutato Perché sto facendo la live Però dopo Appena finita la partita Commentiamo qualcosa Anche qua Niente E se volete Eh Visto che il Il bigliettino Donator Che fa aumentare La possibilità Di trovare shiny Dura sette giorni Quindi questo è il primo giorno Dura sette giorni Se volete Eh Visto che tanto tornerò In quei sette giorni Senza fare una live Eh Stare a vedere se trovo qualcosa Seguitemi anche su Instagram Lo trovate in alto a destra Sul mio canale Così almeno metto le foto Se trovo qualcosa Metto subito le cose Così sapete che abbiamo trovato Uno shiny E lo andiamo a vendere subito Era il tuo telefono Che vibrava Ah ok Grazie Gengar Allora Ragazzi Se si arriva a 30 like E 30 spettatori Mi lo compra 5 ccs Da 30 euro l'uno Quanti? Le armi da 30 euro l'una? Eh Bello Prima live Grazie Gengar Grazie Gengar Scusate c'è anche la partita Dream 100 euro No 150 Si dai No 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 Vogliamo gli shiny Eh lo so Anch'io gli vorrei gli shiny Anche 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 un zizzagon shiny Dai Cavolo me lo droppi un pochino Forza Oh questo donatore servirà qualcosa Cioè l'hanno messo Green dice di cambiare cespugli Fatti spendere i soldi Teller L'erba Mino cambia cespugli Si paga Valerio Mino perché non fai qualche altra cosa invece che cercare le shiny? Aia Eh perché oggi oggi è questo Oggi pochino a me oggi siamo le shiny Lo dice anche Gengar Vogliamo le shiny Può essere che la prossima volta si va in live e cercherò di essere tranquillo perché su questo gioco mi incazzo parecchio perché io sono un tipo molto competitivo Quindi se perdo mi incazzo No Quindi se tipo se volete la prossima live non so se c'è la partita se sarò attento a fare la competitiva Però si può andare su CS se volete Si fanno le competitive su CS oppure anche delle Allora Mino Eh Se tu la live me la fai giorno... Giorno... Uno Vai Vale Giorno uno io... Ci voglio vedere a fare dei piazza No no Poi l'ho detto può essere anche fra un mese ragazzi Tanto vuole l'estate Ok però Chi è che dice Dream dice cambiare c'è spugli Ok andiamo sopra Ron sopra ci sono No è uguale No qui Oh no Un tipo no 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 Valerio San Campion scrive Aspetta che mi faccia altrimenti account così mi non spendi i conti No scusa quanti siamo Sono il momento gay tra Ignesta e non mi ricordo chi No Quanti siamo di like e quanti spettatori siamo? 24 like e unico spettatore Grazie mille ragazzi Vi ricordo che siamo Arrivati visto che l'ho detto all'inizio live Quindi credo Si due ore fa Precisamente due ore fa Siamo due ore dal live Due ore live eh Applausi ragazzi In chat clap 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 Facciamo l'applausi L'ho detto che Oddio Mi sono dimenticato Aspetta No mi sono dimenticato Lo so detto Comunque entra Insigne Entra Insigne Entra Insigne? Mi sa di sì Tra quanti Da quanti vi si cattura a vicenda Lui a 9 sono 8 E però E anche di Diciamo da competitivo Non sono ancora usciti Almeno con natura buona niente Però Lui a 9 sono 8 Ah ti ha risuperato eh Mi ero persa Si ho segnato 9 a 6? No oh via Oh No Perché 9 a 6? 9 a 8 eh Oh Oh Manu Non va bene eh Non va bene Cos'è che sta dicendo qui eh Beh penso che devi andare nel cespuglio in alto Infatti sono andato lì Se volete 3 ore di live Scrivete 3 ore di live Fapp 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 Eeeh Quella è un'altra cosa Dream Un'altra cosa Non si può dire Non si può dire Ragazzi Condividete Mino deve spendere i soldi 15 Spende i soldi Luca Giacomini Vogliamo 3 ore di live Valerio e San Campiano Sì Vabbè Vabbè Sì Sì Ancora noi live Voleva fare la spaccata Cos'ha L'ho pagato Ron ne paga Ma livi Ok ragazzi ci vuole un'altra volta Il nostro Fortunello Dai C'è anche l'Italia Vai Addio Palla palla Vai 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 Dark va a farsi la doccia Dark va a farsi la doccia L'ha detto che è andato via Comunque siamo a 15 però A commentare non c'è Non c'è nessuno Cioè non ci sono nuovi Non ci sono nuovi Cioè questi da un po' che commentano Ora che sono aumentati Comunque vi ringrazio in anticipo tutti ragazzi Per la fiducia che ci date Visto che siamo a 15 E ripeto Noi due seguiamo i retrogamer Retrogamer scusa E loro hanno 55.000 iscritti Una live che hanno fatto Ed erano tipo in 33 a seguirla Quindi noi che siamo quasi 600 iscritti Siamo in 15 Cioè Va benissimo Cioè grazie mille Grazie mille a tutti Vi ripeto Siamo anche sul TS Dopo la partita saremo di la Chiacchierare un pochino Quindi Siateci Tutti eh Tutti Voglio tutti Rimetti un attimo il TS Grazie mille amore Il nome No Sono scesi di 3 No Via Che tiro che ha fatto Becky gliel'ha parato 8 minuti più recupero e finisce la partita Si Beh adesso sono 6 Si sa si sa Ma era inizio live Valeria Cos'è inizio live Cos'è inizio live Cos'era Sono troppi poi finisce il live Non capisco Allora qua c'è la discussione sui 20 account di quella dei tizi No Valeria aveva detto Ora vado a creare altri 20 account così compri la roba su CS Il retro game Spazza Oh la pesante No ehm non era inizio live Era tipo da un po' È tipo un'oretta sempre con 33 spettatori circa Infatti anch'io mi dicevo ma come è possibile che Cioè che loro sono bravi eh Boh non capivo Vabbè intanto ragazzi dopo due ore di live ancora niente Il portiere della Ma è diversa la cosa perché tu sei babbo perché tu devi fare il video annuncio live E non l'hai fatto Gengar dice avete il 3DS? Sì E abbiamo già preacquistato ehm Ehm Pokemon Sole e Luna Cioè Pokemon Sole abbiamo preso Già prenotato E ora si compra anche la scheda per E no il problema è che non 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 C'erano due tizi che se te li inviavi il tuo 3DS ti montavano la scheda d'acquisizione e via E Scusate Mamma mia Però cosa succede? Cosa è successo? Cioè questi due tizi non rispondono più perché Mi sa che hanno finito cioè sono sono bloccati Uno è in America e uno è in Italia È in Italia in Giappone E purtroppo non c'è nessuno in Italia Cioè non Non esiste questa cosa quindi Io sinceramente aspetto la Nintendo che metta a disposizione Di chi ha un TS questa cosa Cioè se te invia al Nintendo il tuo 3DS loro te lo montano perché c'è la possibilità Perché se questi tizi l'hanno scoperto ce l'ha la Nintendo la possibilità Solo che non la vuole mettere in commercio Quindi Hashtag Nintendo mette in commercio la scheda d'acquisizione Pino tu esti Hashtag Hashtag Blaze zitto con gli Hashtag Anche vai Hashtag mi non c'è rotto le palle con gli Hashtag è muta e mettiti un Hashtag in bocca Va bene lo stesso mi date il vostro codice amico Ma ho un computer del cavolo 5-10 minuti alla fine della partita Hashtag Hashtag Sinceramente non mi ricordo il mio codice amico qual è però Ti ho detto se te Ma gli evi dove ne sono finiti Eh Sto chiedendo anche io sinceramente Comunque Ok Ti segni un attimo il tuo codice amico Certo Ci siamo Segnati il tuo codice amico Ti aggiungeremo Ancora no Non so che giochi hai Tipo l'ultimo gioco che ho comprato è Sia XY che Zaffino Zaffiro Alpha E Rubino Omega Cioè no Se è Zaffiro Alpha c'è Mamma mia guarda Meno male ragazzi sto giocando a Pokémon GO Perché io non ce l'avei fatta Questi sono gli aerei dietro casa mia che passano ogni tanto Grandissimi Non è casa tua Casa di Ila Peppe 2000 Ciao Sono in vacanza Sono in vacanza Sono in vacanza e livi è certo Ma i livi dove sono finiti Peppe 2000 Ciao Ciao Peppe Scanger scriva Anch'io l'ho prenotato solo Se ne manca l'una Ah tutte e due Cioè Luca sei in vacanza e stai guardando E Luca ha già cominciato Ma qual è stato il tuo primo Pokémon Cioè per Game Boy o quello che ha Il primo primo Il primo primo Il primo primo Ma di sicuro lo starter Uno starter però sinceramente non mi ricordo se Perché io c'ho ragazzi E' vero non l'ho portato Cavolo Perché voglio portarvi che l'ho messo in un riquadretto da foto la schedina di Pokémon Blue Perché ce l'ho sempre e l'ho messa dentro un riquadrino per le foto così l'ho pesa Perché ragazzi è rimasto nel cuore il primo Il primo Pokémon Il primo Pokémon La prima schedina comprata su Game Boy Pocket Però non mi ricordo che presi all'epoca Cioè dieci anni fa Boh chissò ricorda ragazzi non mi ricordo Allora c'è un pazzinacchio Oh Ivi Mamma mia Buffon Ragazzi Ivi 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 9 Ivi 9 Ivi 9 Ivi 9 Scusami Ivi 9 Ivi 9 E Buffon ha fatto una super mega parata 89 Eh Dark Ivi 9 Ivi 9 Eh Perché Deve uscire C'è il pelo Ah è vero Ok ciao Dark grazie bene di tutto Ragazzi applauso a Dark Siamo in chat Grazie Dark perché è lui che ci ha aiutato Insieme a quegli altri ovviamente A settare OBS per la live Quindi grazie Un bacione Ciao Core Ciao Core Ciao 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 1 2 No non è entrato Scusate eh Vediamo un po' Eh Anch'io ho prontato solo una Basta Mino lo fai una live all'aeroporto Faremo una live all'aeroporto Mino ci hai mai fatto caso Asht Si ho preso tutti gli Asteg Basta Ok la ragione Blaze Basta Ma C'è già Si Ce li ho No Ivi sono in vacanza Ma aspetta Gengar Cos'è? Ce li ho? Cosa rispondeva? Non ho capito a cosa rispondevi a Si ce li ho Scusami eh C'erano un po' di discorsi E' Un po' di discorsi Un po' di discorsi Un po' di distrazione Un po' di discorsi E' E' e vaffanculo va vieni e andiamo ragazzi o signore e ron prende il decimo esattamente ragazzi addio da conte mancava porta dalla panchina mamma mia fine della partita e ron è arrivato a 10 ragazzi ron è arrivato a 10 devi ha vinto 10 a 9 ragazzi perché 20 ivi 20 ivi ron no siamo 19 in totale ragazzi però 19 in totale 10 volevo dire mamma mia quanti siamo ragazzi mi dati un attimo spettatori quanti e quanti like grazie mille meno premio consolazione scambio un attimo penso catturando l'ultimo almeno almeno vediamo un po se è buono oh signore come le stavate alla tua faccia in Italia oh signore oh signore ehi ultimo ivy che catturiamo ok fermi natura timida natura timida che è meno 10 attacco no fa schifo 12 spettatori e 25 like grazie mille la 0 per il caso scontri per la parola e vabbè va benissimo no non va benissimo si ce li ho i giochi ok perfetto grazie mille gengar allora noi beh ora diciamo che la sfida è finita però noi continuiamo a cercare ivy tanto aspettiamo un attimo poi andremo di là richiesta accetta scambio però io che ti do ron ti do zippo vai ti do zippo tanto ce l'ho il pokemon per catturare tranquillo e va a cos'è ok devo fare accetta blocca lista ok non so cosa sia ma non ci scrive ora entro io nell'erba e trovo i visciani e guarda ci manca solo questo ci manca vai vai manu non c'è mai non c'è mai fallo fallo luca giacomini scrive manca uno shiny e dream e dream commenta così io entro nell'erba e me la fumo è finita ragazzi è finita ora vado a vedere se c'è fuori con la fia no no cosa si chiude e finisce così finisce e finisce e finisce ho spaventato il gatto però va bene quando ho urlato apri la scatola ragazzi apri la scatola usa hai ottenuto una colonna di cappelli da pvp mystery box cos'è cos'è cosa vuol dire no via no via usa via cos'è cos'è questa roba cos'è cos'è questa roba allora ragazzi guardate i cappelli via una colonna di cappelli no non ci voglio credere perché vale tanto vale tanto ragazzi andiamo in giro con la colonna di cappelli intanto noi ragazzi noi continuiamo a no volevo un attimo andare di là la partita è finita siamo sempre 25 25 like ragazzi grazie mille complimenti al titolo accoppiata vincente accoppiata vincente ragazzi infatti abbiamo vinto troppo fotti troppo fotti troppo fotti troppo fotti Bella 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 partita No 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 è diversa la cosa ok ha vinto l'Italia ma a me non l'ho fatto Povero gatto è vero perché non l'ho trovato shine sta vedendo ora guarda guarda ora guarda ora Ma chi se ne frega ha vinto l'Italia Ma infatti va benissimo così va benissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissim Ma però sei stata brava a fare le lettere Povero gatto Si va Berlino Si va Berlino Si va Berlino quindi ragazzi io direi di finire qua eh allora aspetta Gengar il codice ti ho detto vieni in ts ce l'hai ts riscrivi un attimo ts ts.targetgames.it ve lo metto in chat ora qua nella live venite di la così ci scambiamo un attimo i contatti tanto basta lì così se Gengar vuoi il codice ora non me lo ricordo sinceramente e qui Zeus mi chiama mentre sono nel live per favore no Zeus un attimo vabbè potevi parlare al telefono mentre sei in live cambio gioco Mino cambio gioco Mino sinceramente non lo so Mino è troppo forte oh Claud ciao Claud ciao Claud abbiamo vinto abbiamo vinto ci abbiamo fatta il mio cane sta perdendo dito dal troppo rumore io ho spaventato il gatto quando ho urlato youtuber fan youtuber fan oh grazie 2-0 ragazzi il pochiamo il mio ha copiato vincente la prossima volta se continuo così è di nuovo eh no no io non l'ho portato via eh no perché oh ha copiato vincente è portato bene 2-0 aspetta vai viva voce dica vai 2-0 in Italia cazzo 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 si come sta andando live si siamo sempre in live si si infatti come sta andando? come sta andando? se sono vetti il mio doni sono bannato in chat no 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 tranquillo no troppo gentile non va bene banno dai vieni anche te vieni anche te vieni anche te vieni anche te allora il mio cane sta perdendo dito dagli 2-0 no continua live please si fa così continua la live fai CS voi mi dicono fai CS quindi no facciamo CS vai facciamo una compa no compa no non ne posso fare ragazzi no compa come faccio tipo 10 minuti io vado a mangiare votate votazione ragazzi votazione i bellissimi ma non si può fare su sulla chat e la votazione solo su itbox vabbè cremo un attimo aspetta non mi ricordo cosa si chiamano ok aspetta come si chiamano throw pool eh bra quello allora metti pokemon gaming trading card aspetta un secondo allora con che gioco continuiamo la prossima live sarà trovare magical shiny mettiamo mi stillo abbiamo detto pokemon gaming card comunque saluto tutti quelli che madocca è casino è vero ragazzi non ti fai gli anghi sullo zaino di giacomo allora finita lì si può spengere allora spingiamo la televisione la partita finita 2-0 per l'italia grandissimo coppita vincente con poche mmo e cosa si fa che si fa che si fa che si fa che si fa ma che casino corsa alle armi dicono luca dice minecraft poi commentate commentate ragazzi eh aspetta eccolo qua il pool prego votate su questo straw pool dove sta il live non gioia il live dai cs per la prima volta passatemi il linko minno tra poco vado a mangiarci sentiamo verso le 21 più o meno ok dream prego prego votate votate ma quanto rumore fai votate e noi poi dobbiamo andare a un compleanno stasera vabbè ci si mette poco comunque ragazzi siamo a 582 iscritti eh qualcuno si è aggiunto grazie mille ragazzi eh 582 stiamo facendo preciso preciso eh il primo gennaio abbiamo fatto eh no tipo il 6 gennaio abbiamo fatto 400 iscritti il 4 aprile quindi gennaio febbraio marzo aprile dopo tre mesi abbiamo fatto 500 e ora 4 4 da gennaio si è aggiunto patrick ciao patrick ciao patrick ciao patrick manu ma che evento c'è alle 23 ciao votate mentre anche te votate ciao patrick scusate se arriva con 20 secondi di ritardo eh ragazzi alle 23 c'è l'altro evento quale è l'altro evento ah si è vero quello di sera però non so se partecipo ragazzi eh scido non ho capito chi c'è salve siamo sempre live ron può mettere il link del live grazie se mi salutate voto metto like e mi iscrivo siamo già salutati patrick ciao patrick però beh iscriviti se ti piace il canale non perchè ti devi te abbiamo salutato mamma mia 2 a 0 mamma mia crow ciao crow ciao grandissimo siamo sempre in live abbiamo visto e commentato la partita ora te l'hai perso forse oppure no non so se stai vedendo comunque sì abbiamo vinto e se va bene anche la prossima si fa così se ci siamo ovviamente vi ricordo ragazzi a tutti che chi sta commentando chi sta vedendo è la prima live del canale eh quindi grazie mille patrick che ha messo mi piace grazie mille grazie patrick dai ragazzi votate dobbiamo vedere ragazzi votate per ora ci sono 5 voti Dani Milo ciao ciao a tutti Dani ciao Dani ciao a tutti ragazzi vedete la gente arriva ora che la partita è finita grandissimi eh è normale abbiamo commentato la partita tutti insieme abbiamo sofferto un po' nell'ultima oretta però ci abbiamo fatta Pisa noi siamo di Pisa 17 ragazzi ragazzi ah ragazzi per chi c'è ora lo spiego cosa abbiamo fatto abbiamo commentato la partita e mentre si commentava visto che appunto non posso far vedere la partita però la potevo commentare Si giocava a Poké MMO Chi vuole giocarci playlist Di tutorial del mio canale E va Come giocarci e viene a giocare con noi E entra nel nostro team E Stavamo cercando Mirtillo Stavamo cercando con Mirtillo Guarda Mirtillo Mi fa le fuse Voto anch'io Mirtillo Stavamo cercando le shiny Ovvero anche Neve lo dico Soprattutto Eevee shiny Però non abbiamo trovato niente Nemmeno uno shiny Però di Eevee ne abbiamo trovati 19 Infatti ora andiamo nel box E andiamo a sistemarli Andiamo un attimo Eevee Eevee 10 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 Comunque per ora con 4 voti Su 3 Purtroppo non conta Però Eevee 10 ragazzi 4 voti su 3 Vince Counter Strike Per ora Cliccate sul link che ha messo Alecraft E votate cosa volete fare Che facciamo Come gioco Come gioco ora Perché se volete la live continua Se vi piace Tranquillamente 18 spettatori Wow Tantissimi 18 spettatori Grazie mille ragazzi Auto Da noi ci sono trombette e bombe Boia C'è un angelo a poche ammio Sì è Ron Con le ali Ron c'è un angelo 11 anche Ron Attenzione E' buono Va a vedere Speed Meno difficile speciale Speed No Oh ma Ci fosse capitato Un Eevee buono ragazzi Porca c'è la miseria Che caso risposta per favore Ale però Rimetti il link Rimetti il link Non riesco a votare Spam il link Vai vai Spam il link Spam il link Allora Natura brave Natura brave Che è Più 10 attacco Ma 10 la speed No Brutto Oh ma dai Ma 10 la speed E poi la vescita è 31 Ale bastava una volta Questo era buono Dai Che cavolo però No no Spam Spam Cavolo Vabbè andiamo un attimo al box Vi faccio vedere a modo le cose Per ora siamo a 4 per CS E 3 per Minecraft Sempre uguali 7 hanno votato Però grazie mille ragazzi Grazie mille Anch'io ho votato Se vi piace Se Menti si sta aspettando un attimo I voti Di lì Se volete Passate dal canale Guardate un po' com'è Se vi piace iscrivete Solo se vi piace Non voglio costringere nessuno Sono contro All'escritto ricambio ragazzi Contrissimo Box 6 Perché la gente scrive 20 Ma il mirtillo dovrà andare a preparare Ah forse 20 spettatori Guarda un attimo Sì sì 20 spettatori 20 spettatori ragazzi Grazie mille Grazie mille Via Allora cambiamo Adesso siamo tornati a 18 No via La gente entra e vede cosa facciamo E poi va via 4 per CS e 3 per Minecraft Allora guardate Eccoli qua Tutti gli IV Che si fa Si vendono Facciamo che il Cotto lo chiudiamo A 08 Vai Ron è morto Oddio Ok diretti sì Aspetta un attimo Ah facciamo così Io intanto con Ron Vendo Li Così faccio vedere come si funziona Anche il Global Trade Link In Ma tu vendi Pokémon E' certo E' certo Buu Buu Ecco il timide Il timide ragazzi E' buono per Jolteon Si mette Per il Pokémon Boni Poi c'è Bold Cos'è Oddio non me ne fanno più Bold grazie No questo era buono Questo era molto buono Di Ron ma No però visto che è buono Ma tanto non me ne faccio niente Lo vendiamo Tanto Tanto ragazzi Alla fine Quanto la natura 4 per CS e 3 per Minecraft Minigame Ron è morto 2-0 Forza Italia Grazie Tommaso Garzia Grazie Grazie mille Bravo Bravo E' venuto anche lui Grandissimo Tommaso vota C'è il link sotto Ale Ale Ancora link Ancora link Prego 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 27 like Boy ragazzi 27 like Grazie mille Grazie mille Tantissimo Intensiamo Ora Mentre Aspettiamo Votate Mentre si vota Io vendo qua i Pokémon Allora Arrivato Babbo Arrivato Babbo Mio Admi Se mai chiudi la porta Che se no disturbiamo Facciamo confusione Perché siamo monelli Siamo bimbi monelli Oddio Qui faccio casino ragazzi Scusatemi Mettiamo lì Come sono Ancora un minuto e mezzo Ancora un minuto e mezzo Ok Mettiamo questo Poi si chiude il televoto Ok Dai un minuto e mezzo Noi andiamo a Pokémon Mettiamo tutti i bimbi E ora Vi faccio vedere come si vendono Come si fanno un po' di soldini Mentre l'aria Sta facendo le foto a Mirtillo Mirtillo Finisce la 20.08 Scusate 27 like Sono 10 Ivi mania Allora Ron Questi sono gli ivi che abbiamo Se mi dimostri Se mi dimostri Dico quanto venderli Ok Ecco il primo E aspettiamo Questo qua Sì Sì lo so Ciao Tommy Ciao Tommy Lui è un ragazzo di Pisa Che gli ho fatto animatore Che è E' arrivato anche Antigampli Antigampli Oddio 22 spettatori E 29 like Oddio Allora ragazzi Io dico di no Perché Avevo fatto Una scommessa Con Blade Che se abbiamo a A 30 A 30 Aspettatori E a 30 like A 30 like Ci sono quasi Mi compro 5 Armi su CS Quindi devo mettere Da parte soldi Ciao Mamma mia Salve Ragazzi Dai Vedete 21 Dai Allora io saluto Risaluto Antigampli Ciao Antigampli Abbiamo vinto Grande Italia Tommaso Garzia Risaluto Ciao Tommy Poi che c'è Claudio Vincere 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 Attenzione Allora Aspettate un attimo Era Quanto vale Brave 28k Ok Allora vi faccio vedere Brave Questo qua Facciamo così Global Trade Link Eccolo qua I tuoi I miei annunci Che sono questi Facciamo questi qua Andiamo Global Trade Link Ora Dopo si va Su CS Dopo ragazzi Si va su CS Quindi rimedite qua E condividete Ora parte CS Parte CS A mille Però non si fa la competitiva Corsa alle armi Perché competitiva Ragazzi Bisogna Un attimo Programmarla a modo Ok Allora Crea annuncio Oggetto O pokémon Mettiamo Mettiamo Pokémon Tassi annuncio 28k Vendi Così Così Ecco Vedi 22 Spettatori Così Nel prossimo Ok Il prossimo Io facciamo spendere 150 euro Solo per un monitor Vai Su E' E' Solo una cosa Dopo per Appena finisci Chiudi E devo entrare Tutti in Weaver Perché? E' Dobbiamo cambiare Gioco Ah è vero Ok Se riesci a farlo da solo Complimenti Va bene Ci provo Ma scusa Basta che Chiudo e cambio Schermata Metto CS No perché Tu catturi la finestra Eh Basta che clicchi Su Pokémon M8 Poi tasto destro Proprietà E metti Clicchi su CS Ok Va bene Ok Allora Molto poco Con tutti i livi Che avete preso Potete ripopolare Questa specie Sì Ok perché Ho trovato un gruppo 5 Bold 44k Oddio ragazzi Questo qui Questo qui Bold Vale 44k Cioè Boom Così Messo lì 44 Ragazzi Facciamo i soldi Oggi Oggi Facciamo i soldi Ve l'ho detto Ve l'ho detto Si guadagna Si guadagna un po' 21 eh Ragazzi 21 Ragazzi Con calma Con calma Ragazzi Ora Vendo livi Così facciamo un po' Di big money Qua su Perché sta vedendo Vinge CSGO Vai Ma scrivete ragazzi Tra poco CSGO Scrivete anche in chat Così la gente Quando inter legge CSGO A manetta Spammatelo 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 Allora Ragazzi Cosa volete Che Mino Spenda i soldi O che Mino Continua a passarsela Nel loro Mancano 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 9 spettatori Mino ascolta gli iscritti Ma è certo che vi ascolta Si va subito Si va subito 30 like 30 like Messo lì Ragazzi dai Solo 9 spettatori Vai ragazzi Vai ragazzi Ultimo 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 E poi si esce Si va a fare CS Si cambia per poco Perché poi bisogna andare a mangiare Quindi si finisce la live È stato bellissimo ragazzi Ma ora vediamo un po' Chi vince il CS Ragazzi dai Ragazzi dai 22 siamo Dai Su 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 Dai su 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 Dai ragazzi su 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 Dai che così Mi non spende i soldi Quanto siamo? Quanti 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 22 e 31 Domi Domi Tudin Ma è Domi nostro No Fregna Fregna È giusto No è giusto Ragazzi Il fregna ci deve essere semplice Come la fregna di mamita Ragazzi ok 15 Comunque Così vi faccio vedere Come si Si mettono Tu annunci Eccolo qua Tutti ivi Eccoli qua Dai ragazzi Dai credo in voi ragazzi Dai Ragazzi poi Su Ma l'hanno già comprati Su Su Ron Guarda un po' la live L'hanno già comprati Ho voglia di sushi Su 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 Dai ragazzi No dai Non ve ne andate Non senti me Mi senti Oh cosa fai Scusa Io che sto segando Eeeh Ila Basta che Ila sta segando Eeeh Ragazzi Allora Dicevo Ron Cioè Due Due ivi sopra Con scritto Inventuti Zero zero Non rivendicati Cinquantamila Ventottomila Quindi vuol dire che l'hanno già presi Dai sali E poi è stato terminato Dai Fate arrivare Trenta spettatori E vi giuro vi regalo Il sushi Non vedo lo steam Lo stream Non si vede No ragazzi Vero Boia Oddio L'hanno già comprata Ragazzi L'hanno già comprata Due ivi Guardate i soldi Da 404.000 Sono andato a 476.000 Ragazzi L'hanno L'hanno già comprata Ancora Altri no Altri no Perfetto Vabbè dai ragazzi Allora usciamo da PokéMMO Grazie mille Ron Ringraziamo Ron Se vuoi Ron Seguici su CS Se ti piace Seguirci anche su CS Se ti piace il gioco Non so se lo conosci S2 Italia Spagna Coppia da Vincente Eh? Vabbè più o meno Eh certo Ok grazie mille a tutti Guarda qui salutiamo Ciao a Tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Su PokéMMO Non conosci CS Allora Qui ora Chiudiamo Mi vede solo me No? Ciao Vede solo me No? Sì? Boh Eh no Si vede Aspetta Io vedo ancora PokéMMO Ok aspetta Io sto aprendo Ok Vale Che cosa Dichi Vengo su No 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 Vale Non Ale Ah ok Eh eh Aspetta vediamo un attimo Cosa ha scritto Gengar Ehi la Eh Ok Eh eh Beh io mangio Vi auguro ogni bene Buona fortuna Grazie Gengar Grazie mille Se ti va Ti ho detto iscriviti al canale Ok Ora ora mi sono Troppo Ora io Scusate per la confusione Ok Allora Eh PokéMMO Faccio Proprietà E faccio CS Ma l'hai avviato CS Sì 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 Avviato Avviato Che fai Va Dai 21 spettatori Dai Dobbiamo arrivare a 30 Non sta andando Va Aspetta un secondo Allora Vengono tutti in Weaver E avviati in Weaver Ne manca noto Dai Ragazzi Dai Luca Dai Condividi Che così Facciamo vedere Un po I sordi Che Signor Maino Il Signor Ron Le dice Le ho scritto Tutti S Ok Scusate un attimo Ragazzi Allora Si cambia subito Si va Sì Lo so L'ho letto Ora dopo Vedo Un attimo Ancora Non vedete Niente Però Aspetta Avviati in Weaver Vedo un attimo Ecco Papapero Ok Riserviamo un attimo Questa cosa Ragazzi Con calma E poi si inizia Uff Mamma mia Poi dobbiamo anche cenare Io fai Infatti Facciamo poco Ragazzi Per finire in bellezza La live Vi ringrazio ancora Ila e le segate Per benissimo Gang Ciao Ciao bellissimo Ciao Ci vediamo presto E giacomini E giacomini e Milo Ne mancano nove Infatti condividete ragazzi La live E' bello che lui vuole spendere i soldi Capito Ma non è perché Ma non è perché Ha schermo intero Vediamo Gli l'ha letto il messaggio Mi dovrebbe preparare un attimo la cena Ok Prova Lascia un attimo così Si vede? Fatemi sapere se si vede in chat Dovevi aspettare un paio di secondi Ok Io aspetto Intanto entra nella lobby Mi devi fare un piacere Devi condividere in live Qualunque persona Tu conosco Così Mino Se arriviamo a 30 spettatori Spenda 150 euro 150 E non si scherza ragazzi Non si scherza Fatemi vedere se Ragazzi La vedete la live? Cioè la vedete lo schermo? O no? Non vi stiamo scherzando Perché Mino Mino Farà il video Non cenate Vogliamo Ancora la live Ancora la live Non so quanto potrebbero durare Senza mangiare No infatti Io ho fame sinceramente Ora ho molta fame Ma fatemi sapere ragazzi Se vedete Se vedete qualcosa Non mi dite Non state lì Senza Ciao io vado Luca grazie mille No Giacolino No Giacolino Luca grazie mille è tutto Un bacione Io non vedo Ci vediamo nel prossimo video Ciao bello Te non vedi Ma non è che devo metterlo Non si vede Aspetta Allora aspetta Opzioni Lo metto a schermo Level full screen Level full screen Modelle di impostazione video Devo elevare un attimo Dalla lobby Lavori entry Dov'è Modalità di visualizzazione Qua Levi In finestra ho messo Eh bravo Applica Applica No no ok si vedeva Si vedeva Si vedeva Si vedeva Si vedeva Rimetti in full screen Si vedeva Si 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 Adesso vedo Cs È soltanto molto in ritardo Io non ci vedeva Meno ci vedeva Meno ci vedeva Vai 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 rimetti in full screen Vai applica Ok Ok Dobbiamo aspettare un attimo Perfetto Ma aspetta faccio Guarda un attimo qua Ciao Manux Grazie mille di tutto Grazie a tutti ragazzi Siete stati fantastici Addio Ok Si vede Si vede Si inizia a giocare ragazzi Dai Un pochino C'è giusto un po' di ritardo C'è un po' Giusto un po' Un po' Un po' tanto Un po' tanto Un po' tanto ritardo Ok Andiamo alla lobby Perfetto Ecco qua Aspetta no Zeus È arrivato anche Zeus Perchè No no La corsa alle armi pubblica Che cosa Ma vai Corsa alle armi pubblica Corsa alle armi pubblica Vai Ma dov'è Vieni o no Eh infatti Zeus Zeus Invita Zeus Altri 6 spettatori Quanti siamo ragazzi Quanti siamo Fate sapere Fate sapere No un altro Ne mancano 9 Ok No Ma fate sapere quanti siamo Mi fa una partita a CS E una partita a Proalla Onesto Proalla Nessuno l'ha votato E vabbè No dai no Facciamo solo CS E poi chiudiamo Perchè È da Non so No Spero che ho invitato anche Andrea Non so quanto ragazzi Non so quanti ma È da un po' che siamo Comunque Ora Iniziamo A giocare Dai CS Forza Mentre aspettiamo ragazzi Guardiamo un attimo tutti Niente Avviato Avviato Dove andiamo Dove andiamo Dove andiamo Ero avanti Tutti Tutti terroristi Vai Vai Via Ci stiamo solo io e mi Ero avanti Ma quanto sono forte Boh Dicià Vabbè Tenta Tenta No Viene la gara di stasera Si può vincere Uno shine competitivo Da usare Nelle competizioni Di pokam E Vabbè Io te lo dico Perchè Non perchè Non voglia venire Davvero Con tutto il resto Della gente Zeus Sta nell'altra lobby L'altro Comunque dicevo Ora devo un po' Concentrarmi Ron Non è che lo faccio Forse che non voglio venire Però sono anche Un compleanno Quindi non lo so Vediamo un attimo Ora mi devo concentrare Ragazzi 17 Ma è normale Quella cena Vanno a mangiare E vabbè Non mi hai salvato Uccidendo qualcuno Aia Vabbè ragazzi È normalissimo Normalissimo Chi è che È normalissimo Che siamo 20% È uno Zeus selvatico Sul tetto Dov'è Zeus selvatico Era sul tetto Non so dove sei andato Minu mia Ma dov'è Zeus No ma guardalo Guardalo Lei è lasciato da sopra Zeus Zeus vieni qua Vieni qua Perché siamo noi soli Non lo so Ragazzi bisogna andare sul tetto da Zeus Vieni qua Zeus dove sei? Proviamo a rifare la partita Sì oppure continuiamo così No continuiamo così Continiamo così Vieni vieni Sono tutti i botti Di là Ma vabbè Ciao blazer Allora ti va andiamo Ti va andiamo Ti va andiamo Ti va andiamo Perché mi spingata Mi sa Ciao blazer Oddio Oddio Il leader della squadra nemica Oddio Oddio ragazzi Io sono fortissimo Oggi Oggi sono in forma Ah perché sono tutti i botti E questo Ti senti in forma Sì Mi sono partita privata Per questo Ma come? Ah ma che siamo solo noi? Ah non lo sapevo Hai capito? Ah non ho capito Scusate Mi è uscito nei botte Ragazzi Così a caso Ok Qui non sta ancora Non sta più commentando nessuno Mi dispiace Non lo faccio apposta Ragazzi Scusate se non Non vedo Però se state seguendo E commentate Voodoo Nubi Così a caso Tanto siamo primi Come sempre Ma è alle Zeus Maiale Non muore Ma qui la gente Mi spara a caso Vabbè Ma che gente Non muore Cheater Eh però cheater Proprio I bot sono cheater I bot cheater No mi sta andando via Lo schermo Siamo di qua Non scrive più nessuno Oh ma che fare C'è gente In giubba Le villa No via No via Ma è alle blades Ma è alle blades che Ciao 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 bello Ciao bello Ci siamo da pochi MMO Siamo spostati Su CS Siamo spostati su CS Se vi piace Avete votato voi Ragazzi Quindi non andate via Perché avete votato voi Ciao 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 Zeus Che casino Ila La porta La porta Grazie mille Scusa Maiale Il lag Preso Zeus Ciao bello Come è alle Ancora al primo posto O strunz Vieni va Maiale Ma dov'è Non lo vedo Che cavolo è Maiale Io c'ho il lag Ragazzi Io sto anche Filmando Eh Un casino ragazzi Preso Mamma mia Allora qui è Comunque c'è tutto E giudetemi su steam Per fare qualche comp Su C'è sicuramente il mio nome Val't and Jess Ok Vudululu Grandissimo Xtronx XXXXXXXXX Asterisco 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 preso vai vai con la pistolina vai con la pistolina vai con la pistolina ma chi è? maiale vai e mi ammazza tutti grazie Tommy comunque vi ricordiamo sempre maiale e fatemi giocare ma guarda lì eccolo ho trovato grazie a me non sento lo sparo non sento oh ma si botta è peggio blanco preso chi si no ma guarda guardale guardale che è primo accidenti il bot ma guarda ancora il bot oh basta oh ammazzalo lo ammazzate un pochino quel bot lì davvero comunque oh eccolo grande grande gerist grazie a te tu io ho fatto greyest greyest grandissimo ho ucciso il leader nemico si passa accidenti l'ho preso attenzione ragazzi si passa siamo 15 15 attenzione coltello d'oro coltello d'oro maiale i bot vai che fa prima che fa prima perché mi ha coltellato accidenti ma coltellamino non no maiale zeus via che rank siete io sono capo argento elite io sono capo argento elite e greyest ti ho già salutato grandissimo grazie mille a tutti che siete passati siamo sempre in live prima eravamo a seguire la partita prendilo maiale maiale oh maiale l'ho preso eh no dove era signore santo comunque l'ho detto che rank siamo oh oh kurtier oh kurtier tutti siamo con kurtier i bot sono dopati boy ma davvero oh signore ma che cavolo c'hanno i bot 33 uccisioni però 30 volte morte io c'ho tipo le morti che salgono se impossibile dov'è questa allora usciamo ah ok perfetto vai passiamo passiamo alle robe serie ok ciao blaze vai ragazzi ultima ultimissima si fa questa e poi si va ragazzi finisce la live grazie mille a tutti non so quanto siamo arrivati non lo so sinceramente non lo sto vedendo sono le 8 e mezza 3 ore 3 ore di live prima live del canale 3 ore cioè io direi che poia io vado ciao ciao vale ciao ciao grandissimo grazie mille a tutti quelli che sono passati grazie mille a tutti che sono passati allora ragazzi sarà molto più difficile ci si prova ci si prova vai ultima e si va ok mamma mia però di là continuano a essere non puoi tornare dopo posso non c'è nessuno che vuole fare corti alle armi in quanti siete? eh? non moriva mai oh signore ahia perso 8 di vita ragazzi 8 di vita perché Zeus viene sempre contro? ragazzi questo qui è molto ce lo vedete come si fa come si fa a giocare a CS mentre si guardava l'Italia cioè è impossibile è impossibilissimo cioè devi devi stare concentrato un casino non ce la fai a fare a guardare l'Italia mentre giocavi a questo no ma non puoi mi sto attendo a troppe cose c'è gente già che è al 4 che cavolo è che mi ha sparato quello lì chiudiamoci no era da dentro guardalo oh signore oh signore santo mi lasciano giocare e qui è andato il il foschi mi diamo un po' scusatemi ragazzi ma oh e arrivai io sono nuova oro 1 boia grande allora non siamo non siamo un canale di CS però se se vuoi ogni tanto si fa io lo posso portare benissimo cioè però ora non credo serie però ogni tanto tipo delle comp anche in live tranquillamente ragazzi commentate fate sapere io tanto mi chiamo come vedete ora minogilda così alleluia il mio fucile preferito vieni ciao vale m4a1 si come ha fatto il zeus l'ho ammazzato ora via erati già lì dov'è un tizio mi ha soffiato il primo no mannaggia lo garmino allarghiamoci sempre l'arghiamoci sempre ragazzi passate sul mio canale le cambio rimanga attivo non facciamo non facciamo spam per favore non facciamo spam perché noi siamo contro le spam quindi se continui ti si si leva per favore parte parte subito il ban io c'ho una mano un po' c'hanno le mani c'hanno le mani leggere loro ve lo dico subito vai Ale vai Ale vai Ale vai Ale preso la k vai con la k maiale lui no preso no via col fuscito da pompa non è morto ma davvero oh e levati di buono gente ce l'ha a dodici vieni no l'avevo l'avevo trovato sapevo che era lì dietro non si è fatto niente esploso esploso è riuscito a passare c'è uno già a 14 noi siamo a 8 lascialo di qua ma chi il gatto no via uno sul tetto lo ce lo levo subito guardalo guarda come esplode guarda come esplode preso ciao Zeus guarda è Zeus guarda guardalo chi è che va sul tetto ciao di nuovo ehi gattino te buono c'è il gatto che miagola ehi i gatti abbaiano e i gatti miagola siamo a 11 ehi ehi con la desert eagle ragazzi con la desert eagle no mi ha ammazzato oh signore vabbè vabbè e che ruba le ghilla alla gente dove sono tutti nel loro spawn aia attenzione uno che c'ha il coltellino ehi te fermo lì gattino fermo 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 scusate ragazzi sto contando sempre la chat a destra chi è senti a non farvi uccidere da sto babbo qua di minchia che sta col cortello ok vai ho il cortello io qualcuno si faccia uccidere no dai niente quindi ragazzi allora ragazzi vediamo un po' se vinciamo qualcosa no niente usciamo e io direi di finire qua la live ora il live non c'è di là è stato bellissimo stare tre ore con voi quindi tre ore dieci con voi ce l'ho qua ora mi vedete solo la telecamera e niente sentite il gatto che sta piangendo quindi niente io fermerei lo streaming ora non so non so che ci sia non so quanti spettatori ci sono 19 ore 19 con 33 ore ragazzi grazie mille grazie mille tantissimo non volevi finire mai perché mi guardano un casino queste cose però io saluto a tutti ciao ragazzi ci vediamo se mi scrivete il vostro nome in chat io vi saluto tranquillamente se volete se no se no niente aspetto un pochino se qualcuno se qualcuno vuole facciamo così ehi c'è il gatto che sta impazzendo ragazzi oddio forse è meglio mettere un pochino più basso così qui qui non c'è ancora niente altri commenti sotto niente ma io posso uscire da che cosa? da adesso si? no 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 da non c'è roommate non c'è sì Grazie.